buonasera a tutti benvenuti in questo gruppo di dizione online che piacere rivedervi sono veramente contento che cominciamo questo percorso tutti insieme in cui faremo sicuramente un bel percorso perché da questo momento in poi avendo avuto un po tutte le strumentazioni necessarie per proseguire nel mondo della dizione adesso è venuto il momento un po di fare palestra e quindi di esercitarci sempre in maniera molto pratica nelle nostre letture e poi pian piano cresceremo per andare avanti e seguire quelli che saranno poi gli sviluppi parleremo sempre di più la lettura espressiva la prosodia impareremo torneremo anche sulle chiusure che cosa sono le appoggiature abbiamo ancora tanto lavoro da fare però vi prometto che se continuerete a seguirmi arriveremo anche a fare un bellissimo discorso attenzione sui colori della voce e quindi introdurremo quello che poi la dizione emotiva e cioè utilizzare la voce per trasmettere non solo i nostri pensieri ma anche le nostre emozioni a cui teniamo tanto giusto perché la voce è un grande trasformatore di energia attraverso la voce noi possiamo esprimere i nostri stati d'animo e anzi vi ricordo che dalla voce è possibile poi tirare il meglio fuori il meglio di sé vi capita qualche volta di essere un po giù di corda un po sottotono vi capita qualche volta a me capita per esempio quando sono mi sento così allora ho imparato a utilizzare la mia voce per fare delle belle letture ad alta voce per utilizzare questo strumento che abbiamo anche per farci venire energia positiva perché ce l'abbiamo dentro se noi amiamo la nostra voce che è l'obiettivo di tutti i miei corsi quando diciamo io amo la mia voce allora siamo in grado anche di utilizzarla per amarci di più e farci amare dagli altri perché vuol dire che impariamo meglio a comunicare e vorrei fare un rapidissimo giro di consultazioni giusto per fare un po il punto della situazione cominciamo random ma comincio con la persona che non vede l'ora di parlare io sono certo che è proprio quella che vuole parlare per prima già sorride e infatti chiamo in causa la bella Sara Rainoldi buonasera Sara come sta tutto bene tutto bene sì sì non vedeva l'ora di parlare vero ti avrei chiesto la parola sicuramente eh lo so e lo so scusami se ti faccio uscire dalla tua zona di comfort però è questo proprio importante perché vuol dire che finalmente ci mettiamo in gioco perché è importante mettersi in gioco allora Sara un minuto chissà cosa fai così ti presenti anche agli altri e hanno modo di capire meglio eh cosa faccio cosa fai nella vita eccetera eccetera perché sei qui un minuto allora io ho conosciuto Gianluca al corso di lingua dei segni che frequenta insieme a Valeria e Maria che oggi non si è potuta collegare e quindi non immaginavamo di di fare questo percorso ma diciamo una nuova frontiera dell'interprete è quella di eh dare la voce ai sordi quindi quando un sordo eh si esprime in segni noi poi dobbiamo mettere in voce eh quello che che sta dicendo e quindi diciamo per migliorare l'esposizione Gianluca è intervenuto e ci ha dato già degli strumenti e a me piace leggere ad alta voce ma noto che da quando faccio il corso un po' meno perché è un compito quindi come tutti i compiti si fanno meno volentieri ma è importante avere la passione per questo sì sì assolutamente approccio alla lettura eccetera eccetera e insieme abbiamo fatto anche poi eh siamo arrivati con te e Valeria a intraprendere un percorso comune perché questo gruppo si sta amalgamando perché abbiamo fatto l'esercizio con il metronomo e anche con le le chiusure e le intonazioni anche con te Rossella l'ho fatto il metronomo una piccola e l'ultima lezione l'ultima lezione va bene l'importante che siamo che siamo arrivati al punto e poi adesso vediamo va bene Sara ti ringrazio e qual è il tuo obiettivo in questo corso l'obiettivo è migliorare l'esposizione e diciamo amare di più la mia voce che ultimamente non l'avevo tanto considerata quindi e infatti l'importante che la stai scoprendo giusto questo corso ti è servito anche per imparare ad ascoltarti e ascoltarti significa capire innanzitutto accettare la nostra voce è importante ricordatevi che dobbiamo accettare la nostra voce poi da lì è possibile dopo aver acquisito una consapevolezza lavorarci sopra ma imparate sempre a registrarvi e a riascoltarvi adesso farò una domanda a Sara che farò un po' a tutti quindi facciamo questo discorso molto interessante secondo me perché dobbiamo lavorare anche un po' dal punto di vista introspettivo per migliorare l'uso della voce chiedo quindi a Sara estratta a sorte poveretto Sara lasciamo mettere in mezzo sì da subito no ti chiedo questo Sara in questo momento se tu potessi raccontarmi la tua voce se tu potessi scegliere un'immagine attraverso la quale rappresentare la tua voce che immagine sceglieresti com'è la tua voce visivamente come la vedi penso che è primavera direi che è un germoglietto è un fiore ancora chiuso ok quindi è un'immagine positiva la tua vuol dire che la tua voce comunque comincia a piacerti perché non mi hai detto che è un inverno e che c'è la neve e c'è la pioggia no mi hai detto che è un germoglietto in primavera e quindi sta per germogliare è positivo allora visualizziamo vediamo questo è il punto di partenza visualizza il tuo punto di arrivo cosa vorresti che fosse la tua voce quale è l'immagine a cui vogliamo arrivare qual è l'immagine finale o comunque quella che ti farebbe stare bene e quindi vedere la tua voce in maniera positiva vogliamo far crescere questo germoglietto vogliamo farlo diventare che cosa decidi tu un fiore sì cosa ci vedi un fiore una pianta cosa ci vedi diciamo la mia mente sta andando dal tulipano alla pesca ancora non so decidermi il pesco è no decidiamo perché poi questa è un'immagine guida che ci porteremo dietro per tutto per i prossimi incontri ok allora andiamo sull'albero dai un albero da frutta vuoi essere un pesco vuoi essere o no giusto no scegli tu devi scegliere tu sì sì vuoi essere un pesco benissimo di che colore rosa lo vuoi essere perfetto bellissimo allora ricordiamoci che sarà diventerà presto un albero un ramo di pesco rosa va bene ok ok grazie sara grazie adesso passiamo avanti so che vediamo chi adesso giochi scalpita che vorrebbe subito che adesso vi presento una persona che c'ha un'energia pazzesca che praticamente dalle 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 da venezia in giù porta una carica un'energia pazzesca vi presento rossella carlesso una delle mie lieve più brillanti che c'ha un'energia positivissima vi contaggerà con con la sua con la sua verve prego rossella ciao a tutti intanto ciao a tutti ciao a professor gianluca ciao ciao bella rossella aspetta perché mi piace ricordare i nomi di tutti allora buonasera professor gianluca va bene gianluca ciao sarah che poi sarah ronaldi ciao nello ciao poi c'è un signore qui un ragazzo alessandro giannone che in realtà è una è una delle mie grandi soddisfazioni perché devi sapere che alessandro è un prelato è un altro esponente della del vaticano è veramente lui e tra poco diventerà vescovo e quindi perciò ce l'abbiamo qui che bello che bello e poi la signora che poi abbiamo la valeria sarà poi rossella che lei c'è la rossella rossi non è difficile è fantastica perché c'è lo stesso nome allora ciao a tutti voglio ricordare perché io poi focalizzo sì ciao sarà ciao rossella ciao alessandro ciao nello professor gianluca poi ti manca giovanni che oggi purtroppo non c'è poi ti manca maria che oggi non c'è però comunque siamo un bel gruppo c'è valeria 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 fannuti e poi anche c'è mimmo se eventualmente ci ascolta e e volevo dire una bella cosa sai sarà così è questo è sempre un mio adesso quando il professor gianluca ti ha chiesto del 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 tuo mi correga professor gianluca se dico timbro 8 o tono è il timbro il libro della voce con un colore risposta per me e si sarà ai avevi già cambiato il tono il tono della voce era diventato più bello è il paio è vero è vero perché quando noi pensiamo alla nostra immagine guida io perché tutte queste cose le sono inventate da solo perché facendo i corsi di crescita personale di pnl ci insegnavano al pensiero positivo a visualizzare l'obiettivo e quindi ho sempre pensato una cosa mi sembra che rossella rossi lei partecipando al corso della dizione emotiva l'anno scorso con oreste affrontammo questo discorso perché è importante capire la nostra voce in questo momento come la vediamo e capire anche dove arrivare deve esserci un'immagine guida che ci porti poi in avanti perciò sarà ha espresso la sua tu rossella come vedi in questo momento la tua voce come la potresti rappresentare visivamente e sono sono felice sono felice veramente ringraziando sono sono felice lo so ti vedo che il tuo sorriso veramente ci risplende sono contenta veramente tanto delle volte magari non si riesce e e e forse lo si percepisce dalla questa potenza della voce dall'energia e spero sia sempre positiva perché io mi metto sempre su un banco di prova certo io voglio voglio troviamo troviamo un'immagine rossella perché ognuno di noi deve dare un'immagine facciamo questo giro di consultazioni allora qual è la tua in questo momento come vedi la tua immagine perché mi sembra troppo grande però in cosa che mi viene in mente vai vai buttati così è il sole è il sole ok è il sole sole ho voglia di energia o voglia di calore di calore ok ma questa è la tua immagine finale o è l'immagine che tu hai in questo momento della tua in questo momento quindi tu la senti calda come il sole e solare come su perfetto allora quindi qual è l'immagine da ampliare e da rendere ancora più grande e il sistema solare allora dobbiamo fare una galassia quindi adesso partiamo dal sole poi faremo tante stelle e quindi attraverso queste stelle avremo la possibilità di costruire la galassia carlesso va bene ok una galassia un sistema solare perfetto intanto diamo il benvenuto anche ad anna buonasera ciao ciao anna è una fantastica allieva dovete sapere che lei tra l'altro è stata una delle pioniere assieme a ciro imparato nel studiare i colori della voce e lei ha avuto la fortuna di conoscere ciro giusto anna e di aver comunque tramite la moglie eccetera hai appreso tantissime cose e quindi è un piacere averla anna è adesso si intera stiamo facendo un rapido giro di consultazioni e quindi sono contento di averti qui con noi adesso ci sono presentando ora rossella quindi tu stiamo dire stiamo chiedendo a ciascuno di utilizzare un'immagine con cui rappresentare la nostra voce sara ci ha detto che lei vede la sua voce come un germoglio in primavera che sta crescendo l'immagine finale deve essere quindi un ampliamento in positivo di questo e quindi l'immagine è quello di vedere la sua voce come un ramo come un albero di pesco rosa poi rossella è partita la grande perché ha scelto una cosa piccola no il sole la mia voce come il sole quindi perciò visto che siamo già solare energia solare cerchiamo allora di creare una costellazione che vogliamo fare un po di stelle posso dire posso dire allora posso un attimino e diciamo è preferibile per partire con una stella vabbè una stella vabbè una stella e poi andiamo tanto e poi allora allora focalizziamo che la tua sarà una costellazione saranno delle stelle in cui ciascuna stella sarà colorata perché trasmetteremo emozioni ogni stella ave avrà il suo colore in base alle emozioni che trasmetteremo va bene ok lavoriamo su questa immagine di questa costellazione colorata adesso chi vuole presentarsi brevemente e raccontarci la sua voce come siamo coraggiosi nello eccolo qua nello zaino il poeta nello il poeta nello faccio una piccola introduzione vi dico soltanto che nello è tra di noi colui che proprio crea dei testi quindi è il sommo poeta dante lo ispira anche sul gruppo me l'hanno recitato sia rossella che mimo che mimo e infatti comunque siete tutti invitati a partecipare a sto gruppo io amo la mia voce che si trova su facebook perché la vi potete mettere in gioco e potete quindi fare tutte le esercitazioni che volete e cercherò anche di seguirvi un po di più però collegatevi su facebook scrivetevi al gruppo io amo la mia voce fate anche amicizia tra di voi e cerchiamo anche di creare delle delle sinergie potete allenarvi tra di voi ok quindi nello prego allora io siccome il colore che mi piace molto è il blu anche se è un colore ibrido non esiste il blu però è un colore che mi mi affascina molto primo essendo ibrido vuol dire che non esiste quindi una cosa di fuori allora in questo momento io mi sento una rosa un po un po chiusa vorrei arrivare ad aprire tutti i pedali e farli vedere far vedere alle persone quindi coloro che mi ascoltano la bellezza di questa rosa quindi in questo caso la voce bella bella questa immagine quindi allora scusami la tua voce in questo momento è una rosa dischiusa o è come un germoglio come quello di sarà della allora io sono partito a tre adesso la sento a quattro sono sincero me ne sono accorto 15 giorni fa la sento a quattro ma devo lavorare molto ancora ok però ti sta piacendo la tua voce questo è importante ok ma sono accorti anche altre penso parlo anche con cinzia all'altra corallini vai molto meglio quando parlato al telefono se ne accorta lei mi ha detto vai molto meglio con la voce anche con la dizione noi dobbiamo a vicenda poi dare i nostri feedback anche per incoraggiamento anche effettivamente per verificare insieme agli altri ma infatti la poesia che mi hanno recitato sia rossella che mimo allora la prima volta sono sincero non mi era molto piaciuta e la volevo mia a me deve arrivare qualcosa che mi viva altrimenti non è l'ultima che mi ha fatto mimo lui dicendo che ci provo invece ha provato una volta solo mi ha preso subito è andato benissimo è andato benissimo allora vedi questo significa che la sensibilità è importantissima va bene quindi la tua immagine è quella di una rosa che si sta dischiudendo che si deve dischiudere è un bocciolo chiuso che deve dischiudersi e capirsi va bene perfetto ottimo ok adesso valeria tu ci sei o sei incasinata se sei incasinata vado avanti no 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 ci sono ci sono benissimo allora valeria anche lei fa parte del corso di interpreti della lingua dei segni sono conosciuti all'università di tor vergata valeria è campana come me e quindi siamo tutte e due napolitanet rimanacendo non indifferente e però dobbiamo mitigarlo e cercare di fare bella figura vero valeria esatto e quindi ripetiamoci subito al volo ripetiamoci subito al volo quali sono le parole le cose allora il dittongo il dittongo con la o aperta il dittongo i e la e è aperta è sempre aperta il dittongo uo la o è aperta e tutte le parole che finiscono con mente la e è chiusa e poi si dice sogno bisogno ginocchio dopo bene bene poi rossella che anche le campana rossella rossimo dobbiamo trovare se la carlessa se la carlesso alza la mano mi avvicino molto comunque al campano si valeria ascolta me e sogno non sogno sogno bisogno sogno bisogno sempre un'occhiata a quelle regole che vi ho mandato bene correggettimi se sbaglio no no va bene va bene quindi valeria quello che tu hai detto è molto importante rossella la chiamo in causa perché come noi e campane quindi l'ha detto dovrebbe farebbe no mi sembra di no 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 i condizionali e in ebbe ebbero questo vale per tutti ricordatevi ebbe ebbero oppure come non è centesimo i numerali inesimo sono con la e aperta centesimo dodicesimo d'accordo quindi tutte queste cose sono importanti ora valeria raccontaci un po come vedi la tua voce raccontaci visivamente attualmente attual attual attualmente ecco cominciamo subito attualmente attualmente come un mare piatto piacevole cioè un mare carino ma io aspiro a il mare in tempesta a come in tempesta cioè allora fammi capire e tu vedi il tuo la tua voce come un mare mi ha detto che tempo fa però quindi se è calmo il piatto vuol dire che una è molto è una una giornata primaverile senza vento agosto agosto ok e questo però questa è una bella immagine di cambio di tranquillità perché poi vuoi andare vuoi essere agitata andare nella burrasca qual è il passaggio positivo perché dobbiamo pensare in positivo perché la vedi il rumore del mare del mare quando è in tempesta quel fragore ti interessa raggiungere il rumore quello forte quello quindi come le onde del mare proprio la potenza quel suono è quello a cui io aspiro ok quindi perciò allora diciamo che l'immagine è quella di sonora poi soprattutto è quella di un di un mare fragoroso mare che si infrange contro le rocce dove sulla spiaggia dove si infrange dove lo vedi quindi sulla scogliera sulla scogliera quindi è un'immagine forte questa è un'immagine dirompente vediamo vediamo lavoriamoci su questo solitamente io perché questo è un po cioè potrebbe essere sembra un'immagine la tempesta non un po negativa in un certo senso no non lo è per niente io ho capito non lo è per niente proprio è la passione del mare il mare e il mare sono le onde non è allora diciamo il mare non mi fa paura la tempesta non mi fa paura ok quindi perciò è un mare che agitato tempestoso che però ti trasmette comunque positività diciamo che lei in gergo poetico l'ha detto in sinestesia capito sono la sinestesia sono due parole e differenti però poeticamente hanno due significati diversi ho capito quello che vuole dire ok va bene perfetto allora abbiamo anche la tua immagine siamo siamo d'accordo poi adesso chi vuole chi vuole prendere la parola rossella rossi non ho dato la mano no però hai aperto il microfono no no mi sentivo che era il tuo momento che devo dire come vedo la mia voce allora sia beh presentati un attimo allora io ho fatto un corso diciamo un modulo di 45 lezioni l'anno scorso in estate con gianluca perché l'avevo visto su facebook cercavo dei corsi per migliorare la lezione perché mi piace fare teatro e quindi mi sono avvicinata pensando di dover gestire bene soprattutto la la diciamo il respiro e anche il volume perché mi sono accorta so perché me lo dice me lo dice il mio maestro di teatro che non arriva bene la voce le ultime file insomma così e poi ovviamente essendo campana dovevo aggiustare l'accento con gianluca ho scoperto che ci sono tante altre cose da fare l'articolazione la rosoria le pause magari facevo perché facendo teatro da un po di anni mi venivano però non ne ho il controllo e devo fare tanta strada però mi piace molto lavorare con la voce ho fatto anche esperienze radiofoniche non so mi piace perché è un bel modo di esprimere le emozioni a me piace toccare le emozioni adesso 50 anni prima no insomma però adesso sì e basta mentre alla mia voce io ora la vedo siccome sono in questa situazione un po silvatica che deve essere controllata mentre parlava proprio la sarà la prima volta che l'hai chiesto io subito ho avuto un'immagine ve lo dico assurda io mi sono vista ce l'avevo solo vista con un branco di lupi che non si sanno ancora non sanno ancora avere una direzione quindi forse l'obiettivo è diventare il capobranco quindi di far zittire così no a zittire avere la direzione no quello che ti quello che ho detto qualche selezione fa e che io non riesco a fare le cose controllate no per esempio questa cosa del tempo è una cosa che mi fa fatica cioè mi piace leggere a volte tu dici ah è andata bene però quello che ho fatto non lo so non ne ho il controllo voglio imparare ad avere la tecnica una capacità tecnica di controllo ok capobranco in questo senso quindi il controllo allora cerchiamo di capire decidere di fare delle cose e farle adesso non mi sembra di non sapere cioè la teoria la so poco studio poco di trovare la direzione giusta quindi di avere una di poter seguire delle tracce facciamo il filo la mia voce adesso mi piace no a giugno abbiamo lavorato su questo ti ricordi che non mi piaceva quindi già il primo è stato e ho capito che posso fare la tua voce ti ricordi com'era timida com'era la tua voce come la potevi definire ti ricordi poi si no e no era come ansiosa era un po ansiosa e stress ok invece però diventa e vedi manco mi ricordo come era diventata era diventata più calma e poi soprattutto più calma piacere di più e qui a piacere sì sì comenta anche darsi degli aggettivi come come poter definire quindi usiamo le immagini però anche l'anno scorso l'abbiamo personalizzata e l'abbiamo proprio definite come le vedevamo adesso lo rifaremo va bene ok rossella balla coi lupi adesso alzata con pugno ti devo chiamare alzata con pugno era la fidanzata di balla coi lupi va bene adesso sotto a chi tocca anche a me andro anna anna benissimo eccoti eccoti ciao intanto scusatemi per il ritardo io sono anna allora io vengo vengo da grigento quindi ho ancora molto più problemi rispetto a è chiusa è palermitano è di palermo giusto alessandro aspetta non mi ricordo però la parrocchia a palermo no neanche di dove sei alessandro palermo sono nella provincia di ragusa e ho avuto la panocchia a mazzurino provincia di caltanissetta che è vicina al grigento non è proprio ah vabbè quindi siete stati vicini conterranei apparteniamo alla stessa terra però noi siamo uno dell'occidente e uno dell'oriente va bene va bene che bello che bello tutta l'italia distinzione mi piace l'italia che si unisce no questa è la cosa bella no tutti i dialetti le cose ognuno ha le sue va bene va bene quindi anna ci stavi raccontando di te che sono quindi ho problemi con la chiusa e niente la mia voce non mi piaceva e quindi ho cercato su su internet ho trovato gianluca abbiamo fatto due cicli insieme mi ha aiutato moltissimo perché ero molto timida non riuscivo a aumentare il tono di voce mi vergognavo soprattutto parlare davanti agli altri e poi la mia voce non mi piaceva adesso sto imparando a fare i vocali gianluca riesco a mandare i vocali riesco ad ascoltarmi e un pochino la mia voce mi piace un po di più un po di più rispetto a prima più vi piace la vostra voce e più avete maggiore sicurezza in voi stessi quando la vostra voce vi piacerà pienamente avrete sicurezza nel parlare e ricordatevi che questa sicurezza aumenterà di molto la vostra autostima perché quando vi sentite ascoltati quando vedete che gli altri vi ascoltano inizialmente anche a me mi è successo perché uno di parte parte dal presupposto vabbè che fatica per farsi ascoltare poi a certo punto quando impari a utilizzare la voce essere più autorevole succede una cosa straordinaria che le persone cominciano a guardarti negli occhi e quindi la ti senti osservato e dici caspita il mio momento la gente qualcuno mi sta ascoltando allora che succede in quel momento ti puoi bloccare e blocchi sì sì è vero è perché ti blocchi perché non ci sei abituato e questo ci fa capire che purtroppo in quel momento abbiamo una scarsa autostima nella nostra voce perché non ci aspettiamo più non diamo ormai per scontato che la gente non ci ascolta invece quando finalmente ci guardano e siamo riusciti a calamitare la loro attenzione non abbassiamo più lo sguardo non siamo non dobbiamo evitare di essere poi timidi e di ritornare nella nella nostra zona d'ombra invece no ci hanno ci hanno ascoltato le abbiamo catturati coraggio respiriamo andiamo avanti e più vedrai che gli altri ti ascoltano e più aumenta anche la tua autostima la tua sicurezza nel parlare quindi è questo il passaggio fondamentale sì ma non d'accordo giallù scusa anche io quando parlo con le clienti quelle due tre che magari mi seguono che stanno che scrivo poesia che faccio per la signora su di riedi mi ha detto si sente che hai migliorato molto ha detto anche proprio quando apro quando articolo ok questo mi fa piacere ma infatti vedrai che tutti no ma questo è il consiglio posso dare a tutti loro perché visto che ho lo provo sulla mia persona più come detto più facciamo esercitazione più prendiamo autostima di noi stessi della nostra voce e quindi più riusciamo a trasmettere agli altri e abbiamo sempre più voglia di imparare questo è quello che succede a me tuttora ancora succede insomma abbiamo più voglia di imparare perfetto ottimo ottimo anna rimane la tua immagine come come poi come vedi la cosa ci stavo riflettendo mentre che sentivo gli altri che parlavano io vorrei essere lo sai vorrei cercare io vorrei la luce sono alla ricerca di questa luce quindi la mia voce come la posso descrivere come la cosa immaginare rimandendo non so allora il tuo obiettivo è quello di trasformare la tua voce in un raggio di luce sì in un raggio di luce ok quindi possiamo avvicinarci al sole di rossella carlesso vogliamo avvicinarci a prendere alla stella alla stella è una stella perciò poi anna anna poi anna ci espanderemo ci espanderemo ci espanderemo esatto come un raggio raggi tag 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 effetti speciali e colori allora quindi anna il tuo sarà un raggio un raggio un raggio di sole un raggio di luce che quello che tu resti ottimo bella bella immagine e come la senti adesso cioè come poi a parte l'immagine come la descrivi in questo momento la tua voce come la senti allora io ti devo ringraziare per la prima volta ma ecco l'occasione per farlo in pubblico di sera mi è piaciuta mia voce mi è piaciuta può sembrare strano ma la mia voce poi faccio vedere il logo che mostro preparando una master class l'obiettivo è io amo la anche se secondo me ancora è piena di difetti di problemi però sto iniziando stanzione a piacermi e questo è importante ragazzi e questo è importante al di là di tutto cioè io vi ho sbomba lato con tutta la dizione la fonetica articolazione cose eccetera sì cose importanti ok ma la cosa più importante di tutte è avere autostima nella propria voce se voi avete questo siete già veramente a un passo dalla vittoria perché è da quello che poi si basa tutto vi deve piacere la vostra voce prima accettarla puoi capire quali sono i limiti e superare perfetto ho capito che finalmente ho capito quello che tu mai sempre detto è inutile che sto dietro con la e chiusa e aperta o perché arriverà poi arriverà non ci riesco sogno lo dico malissimo però sto imparando ecco a la tonalità ok il timbro di voce infatti sento che stai parlando con una voce più corposa perché stai mettendo più volume quindi c'è più aria giusto ti ricordi che ti dicevo e lo dico a tutti tutte le volte che parliamo dobbiamo ricordarci che abbiamo delle cose molto importanti da dire quindi quando parliamo facciamo capire agli altri che siamo persone di valore che abbiamo delle cose importanti da dire per poter fare ciò è necessario utilizzare la voce in maniera persuasiva con sicurezza quindi vinciamo la nostra timidezza attraverso l'uso della voce perché è importante utilizzarla per farci ascoltare ciascuno di noi ha delle cose straordinarie da raccontare agli altri però molto spesso le consideriamo delle banalità e cosa succede è che poi ci sovrastano persone che hanno veramente da dire delle banalità però hanno il vantaggio che loro conoscono usano la voce sono più persuasivi perché a napoli si dicevano la faccia tosta invece se noi siamo un po troppo remissivi rischiamo poi di non dare valore a ciò che abbiamo dentro ma vi conosco tutti e so che ciascuno di voi ha delle cose molto importanti da dire quindi imparate a farvi ascoltare e dite proprio guarda io ho una cosa molto importante da dirti fammi parlare un attimo a me un momento e fammi parlare proprio così no perché ci sono quelli che parlano troppo no e non ti fanno parlare stai calmo posso parlare anche io e quindi dite la vostra ok non vi fate sovrastare dagli altri se avete dei mariti dei compagni degli amici che parlano parlano non vi lasciano mai parlare fermati un attimo fammi parlare pure a me ok ho da dirti delle cose importanti ascoltami va bene adesso grazie anna adesso manca alessandro eccolo qui il nostro alessandro tanto piccola correzione non altro prelato io avevo capito così scusa mi pensavo che di quasi vescovo non è arrivata alcuna nomina ho capito va bene quindi frate alessandro alessandro in realtà un frate cappuccino che dedica la sua vita allo studio e anche alla preghiera e che poi ha espresso il desiderio di migliorare l'uso della voce facendo il primo corso di sezione con me assieme a rossella nello e giovanni che poi conoscerete bene e alessandro come vedi la tua voce come la senti allora mentre parlavate ecco più che la voce io direi un'immagine che mi riguarda in questo tempo e che quindi riguarda anche la voce è la tartaruga però non la tartaruga per dire una cosa negativa ricordando la storia della lepra e della tartaruga per cui io mi sento un po questa tartaruga che vedo tutti correre che tutti sembrano essere più veloci di me però io sono come quello io piano piano arriverò alla meta quindi sono una tartaruga lenta ma tenace per cui alla fine io arriverò arriverò prima arriverò dopo questo non ha importanza però arriverò e questo è quello che mi sento così nel senso che non sono arrivato perché ancora difficoltà anzi dirò a volte mi sento un po impappinato perché nello stare attento a lei chiuso o chiuso o aperto e poi inizio a perdere la velocità e a volte per questo non dobbiamo arrivare a questo però lentamente ecco lentamente credo di poter arrivare quindi faccio un po di esercizi lentamente non sono sempre a sito perché a volte la vita non mi permette di farlo però in linea massima cerco di continuare di continuare ottimo quindi fatto che sia una tartaruga vuol dire anche che coriacea quella tua voce perché comunque c'è il guscio e insomma tartaruga poi campo a più di cent'anni quindi è una bella una bella immagine la tartaruga quindi bella coriacea che prosegue lentamente però poi cosa fa verso dove dove va verso il mare dove deve andare questa tartaruga poi si merda potremmo anche nuotare liberamente esatto e penso che sia quella l'immagine quindi cercate di pensare all'immagine della vostra voce da dove partite a dove volete arrivare e quello è importante l'arrivo ok quindi pensate descrivete la vostra voce come adesso e descrivete come vorreste che fosse perché è là che dobbiamo arrivare il viaggio dell'eroe è colui che si impegna attraverso una serie di azioni viaggia e attraverso questo viaggio poi raggiunge la sua meta durante il viaggio incontrerà amici alleati nemici incontrerà anche un mentore un mago o qualcuno che lo aiuterà in questo caso il guerriero della luce il caruso speaker e quindi vi darò gli strumenti per passare il guado e quindi perciò andare oltre va bene allora ci siamo presentati era doveroso farlo e perché comunque stiamo diventando una famiglia allargata rossella volevi dire qualcosa stavo scrivendo a proposito vedi ho preso nota di tutti sì e stavo appunto scrivendo il viaggio del guerriero della luce lo stavo già scrivendo ah vedi tac tac il guerriero della luce sì fantastico in tutti i miei corsi io utilizzo questo testo di paolo coeio il guerriero della luce perché credo che tutti noi siamo dei guerrieri in questo caso dei guerrieri della voce perché dobbiamo imparare a trovare questa voce interiore è un po' come il cavaliere che va alla ricerca della spada nella roccia quindi il mago merlino mi sono vestito di blu quindi mi manca solo il cappello a punta il mago merlino aiuta Re Artù a cercare a trovare la spada nella roccia quando il cavaliere il guerriero trova la spada nella roccia comincia ad estrarla riesce ad estrarla quindi quella spada che estrae è la nostra voce e dobbiamo imparare a utilizzare questa spada nella vita di tutti i giorni per contrastare sia superare le prove i nostri nemici il nostro nemico più ostinato quello più difficile da combattere lo sapete qual è? noi stessi siamo noi stessi esatto purtroppo il nostro nemico più a volte ci sembra invincibile siamo noi stessi dobbiamo combattere contro di noi per poter poi riuscire a raggiungere il nostro intento quindi amiamoci cerchiamo di scendere a patti con noi stessi cerchiamo di fare amicizia con noi stessi perché se dobbiamo combattere pure con noi stessi già c'è stata una guerra atomica là dietro e Putin ne sa qualcosa ma oltre alle guerre in generale se facciamo già una guerra tra di noi con noi stessi le cose si complicano quindi evviva la pace interiore e Alessandro sicuramente lui di pace interiore ne è maestro eh? vero? come fra Alessandro come dobbiamo fare questa pace interiore? dacci una mano dacci una una benedizione che dobbiamo fare? come si raggiunge la pace interiore padre? pace interiore pace interiore la pace interiore in realtà non si raggiunge nel senso che è lei che ti raggiungerà quando cioè il problema della pace interiore è semplicemente un riconciliarsi con se stesso con Dio e con gli altri e con il mondo nel momento in cui avviene questa riconciliazione c'è la pace ti raggiunge la pace ma è attraverso il perdono che si raggiunge la pace un perdono e la miseria e quindi in realtà il nostro compito tecnicamente è quello di accedere all'amore e al perdono e poi la pace ci raggiungerà quindi dobbiamo perdonare anche noi stessi per tante cose che ci riempie eh sì diciamo che noi in realtà non perdoniamo gli altri perché non sappiamo perdonare noi stessi beh interessante questo credo che stiamo ci stiamo avvicinando al clima pasquale e quindi perciò facciamo delle riflessioni anche spirituali bene grazie Alessandro e a questo punto vorrei approntare con voi un testo che molto probabilmente è un discorso uno dei discorsi più famosi della storia dell'umanità e caso strano vedi Alessandro e case della vita oggi parleremo di un grandissimo uno dei più grandi oratori della storia e parleremo di un prete di un pastore che negli anni 60 riuscì a guidare un un movimento molto importante per i diritti civili delle persone di colore sto parlando di Martin Luther King che rappresenta dappertutto e universalmente riconosciuto come uno dei più grandi oratori perché poi fu protagonista di questo famoso discorso un po' come il discorso della montagna di Gesù senza fare troppe similitudini paragoni però comunque è un discorso importante dove lui ha espresso in questo discorso tutto il suo modo di vedere io vi ho chiesto poco fa di immaginare la vostra voce e quindi di sognare la vostra voce e infatti Martin Luther King dice I have a dream io ho un sogno e il suo sogno è quello di vedere finalmente gli uomini bianchi e gli uomini neri che bambini di entrambi le etnie che possano camminare mano nella mano e possano quindi vivere felicemente adesso noi ci leggiamo il discorso di Martin Luther King che è anche utile per impreziosire la nostra umanità la nostra sensibilità e però poi lo dobbiamo un po' vivisezionare per fare i nostri esperimenti perché poi noi dobbiamo andare nello specifico andiamo a togliere fare intonazioni insomma tante cosette allora facciamo una cosa io lo condivido con voi e qualche volta avete visto questo famoso discorso di Martin Luther King I have a dream lo conoscete andiamo a dargli un'occhiata qualcuno non lo sa faccio vedere non lo sa tu Nello non hai mai sentito vero sì non mi ricordo voglio vedere il discorso qual è non lo so se non me lo fai vedere non lo so certo non ho sentito però se non vedo qual è ok vabbè non ti arrabbia un attimo no non vedo certo allora Martin Luther King fa un ecco qua bene tutto è in inglese quindi perciò ok aspettate che lo sto cercando su su youtube allora ok allora ho un sogno ho un sogno di Martin Luther King adesso lo condivido con voi e così ce lo vediamo un attimo perché capite anche come un grande oratore è in grado di coinvolgere le persone ecco qua lo vedete adesso lo mando in play e vediamo e vediamo un attimo e vediamo un attimo e vediamo un attimo Grazie a tutti. 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 sottotitoli, però avete visto con quale forza Martin Luther King. Poi parla a braccio, eh? Poi c'è una... qualcuno dice che questo discorso sia stato preparato, qualcun altro dice invece che lui aveva un discorso preparato, però quando poi andò dietro le quinte ci fu un fratello che gli disse una cosa a proposito di un sogno, di una visione e quindi lui invece cambiò il suo discorso incentrandolo sempre su io ho un sogno. La cosa interessante dal punto di vista della retorica è che lui racconta la sua visione e quando termina di raccontare la sua visione non è che aspetta l'applauso, l'applauso viene dopo che lui ha detto io ho un sogno, che un giorno dalle montagne del Tennessee fino a New York succeda che i fratelli bianchi e i neri possono andare insieme a scuola, io ho un sogno, capito? Io quindi attacca, io ho un sogno alla visione precedente e là poi scatta l'applauso. Allora quindi adesso abbiamo fatto tanti esperimenti con l'articolazione, adesso vi voglio oggi, poi riprenderemo, oggi vi voglio lavorare con voi su dei fattori molto importanti che sono i famosi cinque parametri che un po' abbiamo introdotto, quali sono i parametri importanti? Il volume, l'intonazione, il tempo, il ritmo e il sorriso. Ora Martin Luther King utilizza tutti questi cinque parametri in maniera straordinaria con un obiettivo fondamentale che è quello di motivare e di coinvolgere le persone che lo stanno ascoltando. Ora analizziamo bene questi parametri del discorso che abbiamo appena visto. Dunque che volume utilizza Martin Luther King? Medio, basso, medio o alto? Alto. C'è d'accordo? Sì. Perché? Perché alto? Perché niente gli vuole gridare o perché c'è un motivo? Per arrivare alla gente fino in fondo. Ok, però c'è il microfono, eh? No, no, con la voce arriva meglio che col microfono. Eh, però col microfono dovrebbe... No, secondo me voleva dare forze ai concetti, erano molto sentiti, erano molto... C'era enfasi, quindi il volume non è soltanto, cioè non stava a teare, doveva... Molto autorevole, ma anche molto sentito, molto... C'è anche un po' di rabbia, no? C'era una passione, secondo me. Partecipato, molto... Partecipato, esatto. C'è... Cosa c'è? Sono tutti i colori. Forse quello che non c'è, il colore giallo della simpatia... No, c'era il rosso, molto forte. Però c'era l'autorevolezza, c'era il rosso, l'entusiasmo, la passione, la voce verde, quella del... Non la usa tanto perché lì è il contesto, è completamente... E stava il blu e il rosso. Blu, autorevolezza. Per Valeria e Sara, che forse non hanno tanta dimestichezza con i colori della voce, Rossella pure, mi pare, i colori della voce sono... È una catalogazione, un modo, una classificazione che ha dato il grande Ciro Imparato, che è un collega, attore, doppiatore, ma soprattutto grande divulgatore, perché lui credeva nel potere della voce. E quindi devo dire che molte delle cose che dico io poi le ho ritrovate nei suoi libri e quindi è sempre interessante metterle in pratica. Lui sosteneva che in un discorso è possibile individuare una serie di colori. Ci sono i colori positivi e i colori negativi. I colori negativi sono il colore nero della rabbia. Molto spesso ci arrabbiamo e quindi quando usciamo fuori dai gangheri utilizziamo un volume molto intenso. Cioè forse quell'uragano, anche se era positivo per Valerio, comunque esce fuori il maremoto, lo tiriamo fuori quando siamo arrabbiati. E quella è la voce di colore nero che dobbiamo evitare in un discorso. L'altro colore da evitare è il grigio, perché comunque saremmo troppo monotoni, saremmo troppo freddi o comunque distaccati e non otterremo nessun risultato. Invece i colori sui quali bisogna concentrarsi sono Il colore giallo, quello della simpatia, che è contraddistinto da un volume medio-alto, da un tempo quasi veloce, da un ritmo con delle pause brevi e soprattutto c'è un sorriso che è costante, un sorriso che ci permette di avere l'attenzione delle persone. Vi sarà capitato, no? Vi sarà capitato di dover fare un discorso davanti a tutti? Come fate all'inizio? L'avete appena fatto il vostro discorso di presentazione? E la prima cosa da fare è cercare di essere un po' accattivanti, quindi con un sorriso cercare di introdurre le vostre... ciò che avete da dire. Perché i presentatori televisivi, gli speaker, sono forti? Perché hanno questa simpatia iniziale. Ciao a tutti! Benvenuti ai soliti ignoti! Anche questa sera tantissimi ospiti! E... Vi arrivano delle cose straordinarie! Allora, benvenuti! Applausi! Questo è quello simpatico. Poi c'è la voce verde. Adesso vi faccio vedere lo schema che qualcuno di voi conoscerà bene, però è sempre bene ripetercelo. Io l'ho scritto sul telefono. Come ditete? Scusatemi? Io me lo so scritto sul telefono. Ah, tutto lo sei scritto sul telefono. Perfetto. No, pensavo che te l'hai tatuato sul braccio. Va bene. Tutte... Ok, vedete i colori? Lo schema dei colori? Ah, ecco. Ok. Allora. Valeria, tu ci sei? Stai guardando? Allora... Sì, ci sono, ci sono! Dai un'occhiata, questo è importante, ragazzi. Sì, sì, li sto guardando. Sono davanti al computer. Benissimo. Allora, i colori della voce. Abbiamo detto, quindi, abbiamo il colore giallo della simpatia. Il volume è medio-alto, il tono è variabile, dall'alto al basso, il tempo è quasi veloce, le pause sono brevi e il sorriso è costante. Ok? Questo è il colore giallo. Quindi, medio-alto, variabile, dall'alto al basso. Benvenuti a tutti, salto, soliti ignoti, una nuova puntata interessante, quasi veloce perché vado in là, pause brevi? Sì, perché in questa puntata troveremo una serie di circostanze davvero straordinarie, il sorriso è bello costante e noi lo amplifichiamo. Poi c'è la voce verde, quella della sincerità, quella rassicurante. Abbiamo detto che il volume è medio-basso, il tono è basso, il tempo è lento, le pause sono esitanti e, attenzione, il sorriso è dolce. Quindi, un volume medio-basso, è una voce sincera, rassicurante, quella che vi mette a proprio agio, che cerca di creare, quindi, un clima di fiducia, di sincerità e con un tempo lento, delle pause esitanti, vedete perché noi facciamo una pausa che presuppone anche un qualcos'altro, quindi non sono delle pause nette, come vediamo adesso nell'autorevolezza, ma sono delle pause che presuppongono che il discorso continui. Adesso, voce blu, autorevolezza. Questa voce blu, mi raccomando, la dovete tutti quanti memorizzare bene, perché è quella che vi manca un po' a tutti. Tutti quelli che hanno difficoltà nell'amare la propria voce oppure nel manifestare la propria personalità attraverso l'uso della voce, devono utilizzare di più questo colore blu dell'autorevolezza. Quindi il colore blu indica una voce sicura, affidabile, che crede in quello che dice. La cosa è costituito? Da un volume medio-alto, da un tono basso conclusivo, da un tempo medio, da pause nette e un sorriso sicuro. Io credo che nel discorso di Martin Luther King avrete notato certamente questi fattori. Quindi lui, volume medio-alto, I have a dream, che è anche alto nel momento in cui è anche la passione, però I have a dream, tono, basso conclusivo, quindi io ho un sogno, basso conclusivo, che un giorno i nostri figli, basso conclusivo, pause nette, potranno camminare mano nella mano, pause nette, tempo medio. fa le appoggiature, no? Appoggiature, bravo, appoggiature, andando a chiudere, facendo delle pause nette sulle appoggiature, fate le appoggiature in chiusura, bravo. Il sorriso è sicuro, cioè stranamente il sorriso non lo vediamo, però il sorriso c'è sempre, ma per sorriso intendiamo non l'ironia e il divertimento, ma il fatto di utilizzare la voce e con un'articolazione della bocca un po' più ampia del solito. E quindi il sorriso significa avere più articolazione, quindi una maggiore apertura della bocca per far uscire i suoni in maniera più chiara. Poi abbiamo riscontrato anche il colore rosso della passione, perché abbiamo visto che questo volume diventa sempre più alto. I have a dream, è un sogno che la nostra libertà risuoni dalle alte montagne del Tennessee, poi ogni tanto fa Tennessee, fa delle cose, delle appoggiature che sono un po', perché lui comunque è un reverendo abituato a parlare in chiesa, nella chiesa tipo evangelica, dove ci sono i predicatori, quelli là che parlano in maniera molto partecipativa. C'è un crescendo. C'è un crescendo, bravissima, c'è quel pathos, quell'emozione, quell'entusiasmo, diventa poi veloce a un certo punto, quando fa tutto quel discorso, tutto questo e quest'altro, che cos'è? Sempre incalzante, e il sorriso intenso, quando soprattutto lui esprime queste sue emozioni sotto forma di immagine. Quindi variamo completamente, andiamo dall'autorevolezza alla passione, e facciamo vari passaggi. Ok, adesso, partendo dal presupposto che nessuno di noi è Martin Luther King, per carità, però ci cimentiamo nel leggere questo discorso, mettendoci del nostro. Ok? Ora ce lo divideremo un po', lo leggeremo un po' ciascuno, così, vabbè, a rotazione, e facciamo che ognuno di voi lo legge fino al punto. Va bene? Fino a un punto. Poi vi fermo e poi vi dico continuo, eccetera. Va bene? Allora, chi vuole cominciare? No, io sto allargà, perché non è che c'ho paura, io non c'ho problema. Io sto allargà. Nello, te dico sempre che devi parlare italiano quando stai a fare lezioni. Vuoi che lo leggiamo, vuoi che lo leggiamo anche con l'intenzione, con la partecipazione, posso andare a dare colori? Cominciamo a, innanzitutto, a utilizzare qualche parametro. Sì. Ok? Allora, il parametro qui... Wicc uguale. Nei pauli. Allora, facciamo, cominciamo a utilizzare, magari possiamo fare anche un esperimento partendo dall'inizio, no? Allora, se vogliamo imitare lui, dobbiamo essere direttamente autorevoli ed entusiasti. Va bene? Ok. Ditemi chi si vuole cimentare e poi vi guido io. Ditemi chi vuole cominciare, se no devo scegliere io. Valeria Pannuti, lei si è prenotata. Ciao Valeria, benvenuta ai soliti ignoti, no, benvenuta al programma I colori della voce. Bene, allora, ci possiamo cimentare in questo discorso di Matthew Luther King. Ok. Prova a leggere un attimo così come ti viene. E perciò, amici miei, vi dico che... Miei, con l'aria aperta. Miei, miei, vi dico che anche se dovrete affrontare affrontare le asperità di oggi e di domani, aspetta che... No, no, aspetta che mi avvicino, ecco. Ok. Anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Ok. Come è stata? Convincente, Valeria? Vi ha convinto? Vi ha anche un po'. Vabbè, feedback, ragazzi, che è stata convincente. Cosa vi ha trasmesso? Allora, Valeria, cosa volevi trasmettere? Per me è stata in gamba. Ho fatto una prova. No, no, ma partendo dal presupposto che siamo tutti bravissimi e siamo geniali, qua non è che stiamo dicendo, non è che sto chiedendo i voti, no, sto dicendo semplicemente cosa vi è arrivato. Tu cosa, Valeria, cosa volevi esprimere? era una lettura così o hai anche provato a esprimere qualcosa? No, stavo solo leggendo. Stavo solo leggendo. Se vuoi posso riprodurre, se vuoi? Sì, sì. Allora, però, manifestami qualcosa, esprimimi, cosa vuoi? Passione, entusiasmo, serenità? Scegli tu cosa vuoi trasmettere. leggere un discorso di Martin Luther King è una responsabilità che, lo so, voglio dire, io non mi posso assumere. No, vabbè, ma noi siamo dei supereroi, grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Quindi, vabbè, ma noi non fa nessuna imitazione di Martin Luther King, siamo qua per imparare l'arte dell'oratoria e quindi ci cimentiamo in questa cosa. Posso provare a farmi capire? Va bene, va bene, facci sentire, innanzitutto. Lavoriamo sul sentire. Allora, innanzitutto il volume, alto. E perciò, amici miei, vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. Più. E un sogno profondamente radicato. Vedi che è grassetto. Io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere, eccetera, eccetera. ok? Ok, dobbiamo immedesimarci in Marti Luther King. Quindi, Valeria, un po' più così. E perciò, amici miei, vi dico che anche se dovete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. Prova così. E perciò, amici miei, vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. Brava. E un... Vado? Prendi il respiro. Brava, prendi il respiro, però, quando avete le pause, quando dovete utilizzare questo volume così intenso, ci vogliono le pause, nelle pause dovete prendere aria, respiro. Sì. Vai. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano. Sarebbe bello dire profondamente. E un giorno questa razione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità. Noi riteniamo ovvia questa verità. Noi riteniamo ovvia questa verità. Che tutti gli uomini sono creati uguali. Ok, molto meglio, l'unica cosa non è profondamente, ma è profondamente, non sono i piedi, ma sono i piedi, e vabbò. Ok. Però, è arrivata, vi è arrivata di più adesso? Sì. Eh? Ok, perfetto. Va bene, bravo Valeri. Ottimo. Bene, allora adesso chi si vuole cimentare? Vado io. Nello zaino. Allora, prova un po'. Alla fine, tanto va o non va, va bene, uguale. Va sempre bene, l'importante è che dichiarate cosa vuoi, cosa vuoi, cosa vuoi trasmettere. Voglio provare a fare quello blu, perché io ho autorità ho poca, voglio provare a fare il blu. Allora, il blu. Allora, quindi, com'è il colore blu? Autorità. L'autorevolezza. Allora, il colore blu è autorevolezza e abbiamo un volume medio-alto. Sì. Poi abbiamo un tono basso conclusivo, un tempo medio, un ritmo con pause nette e un sorriso sicuro. Proviamo. Vai. Allora, qua non vedo più niente. Che è qua? Come c'è sta sto cartellino? Aspetta. No, c'ho un quadrante qua, non vedo. Ci vedi? Sì, ok. Vai. Allora, io ho davanti a me un sogno e un giorno sulle rosse colline della Giorgia i figli di coloro che a un tempo furono schiavi dei figli di coloro che a un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Allora, puoi alzare di più la voce e se è più chiaro perché ti sei impappinato. Io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Giorgia i figli di coloro che a un tempo furono schiavi appoggiature pausa, respiro e i figli di coloro che a un tempo possedettero schiavi non possedettero ma possedettero pausa, respiro sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Ok, vado. Sì. Io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Giorgia i figli di coloro che a un tempo furono schiavi e figli di coloro che a un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Ok, meglio, però ancora più lanciato, più deciso, più appassionato. Io ho davanti a me un sogno. Prova così. Io ho davanti a me un sogno. Io ho davanti a me un sogno. Un sogno, no sogno, con la S. Sogno. Sogno, ho detto. Io ho sentito una S strana. Io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle colline della Giorgia... Io ho davanti a me un sogno. Un giorno sulle colline della Giorgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della città dell'Ansa. Ok, cosa volevi esprimere? Io volevo trasmettere diciamo autorità e far capire alle persone che comunque è come se io come persona voglio trasmettere un'autorità agli altri nel senso fargli capire che un'autorevolezza. E vi è arrivata questa autorevolezza? Poco. No, vabbè sinceramente non mi ricordo. Io secondo me ho detto poco io secondo me. Tu dici poco. Gli altri che hanno che dicono? Vi è arrivato vogliamo farlo riprovare? Nello sono Rossella cosa hai detto a me? Ti ricordi? Pensa a qualcuno in particolare do un suggerimento sto parlando con Nello prova a pensare a chi sei tu dai 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 vai dai rifallo rifallo io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono furono schiavi e figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ok l'hai fatto troppo veloce però dovevi fare delle pause più nette il tempo era troppo veloce io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi pausa respiro sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza sono andato troppo veloce sì è vero troppo veloce Gianluca era migliore per me sì sì vabbè facciamo l'ultima volta no sono andato troppo veloce non mi ho accorto vai vai Nello allora devi fare delle pause nette e conclusive ti devi fermare la pausa è sogno poi la prossima pausa dove devi farla e allora qui a coloro prima di che la prima è sogno la prima è sogno poi la prossima la voglio fare qua prima di che di coloro qua la devi fare a Georgia invece perché è troppo lontano che un giorno sulle rosse colline della Georgia pausa i figli di coloro che un tempo furono schiavi pausa e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi pausa sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza dai falla così vado allora io ho davanti a me un sogno che un giorno sulle colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo sedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ecco buono il finale ci sei piaciuto ok credo che tu abbia raggiunto un buon devi soltanto lanciare di più devi lanciare di più il colore della dell'autorevolezza questo lo sapevo già dall'inizio quando ho fatto il corso con te che dovevo migliorarlo molto perché non ce l'ho molto esercitati esercitati su Martin Luther King ok ok va bene andiamo avanti chi vuole infatti il volume alto ti ricordo che fino a qualche lezione fa non l'avevo non ce l'avevi proprio certo attenzione volume alto non significa gridare sì no no volume alto significa sostenere la voce utilizzare più respiro le intonazioni devono essere comunque sempre profonde insomma ok ok allora chi vuole provare adesso ragazzi velocizziamo dai coraggiosi coraggiosi uoio dai che ci sono le z che mi fanno male rosselcia va bene rossello così lavoro con le z va bene io volevo la s invece infatti queste z non mi piacciono proviamo va bene siamo tranquilli siamo tranquilli è un gioco allora aspetta intanto sogno e perfino va bene allora io davanti a me non so facciamo che un giorno perfino lo stato del andiamo avanti no che un giorno però adesso c'è una cosa che stai mettendo sul foglio non vedo tutto siete voi che vi sto cercando di vedere tutti insieme allora io quello lì perfino lo stato del mississippi quel pezzettino lì faccio io davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato del mississippi uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia colmo dell'arroganza dell'oppressione si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia ok eh sì però non hai fatto non lo so che ho fatto vedi non ho fatto le appoggiature adesso vorrei provare allora aspetta allora no è andata bene però devi ricordarti che quando fai le pause le appoggiature devi prendere l'aria il respiro quindi io davanti a me un sogno che un giorno perfino allo stato del mississippi pausa fallo con me io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno eh però attenzione mo se andano troppo sulle note alte e stai perdendo di forza poi diventa un po' isterica io davanti a me un sogno ecco un po' più un po' più alto io davanti a me un sogno ok io davanti a me un sogno bravo che un giorno perfino lo stato del mississippi uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia colmo dell'arroganza dell'oppressione si trasformerà in un oasi di libertà e giustizia ah ma dice dell'arroganza dell'ingiustizia sono insieme ok dell'arroganza dell'oppressione ok ok dai rifarlo io davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato del mississippi uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia colmo dell'arroganza dell'oppressione si trasformerà in un oasi di libertà e giustizia bravo 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 soltanto su dell'ingiustizia se hai un po' scivolato la z no 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 ah no il finale il finale si diciamo dell'ingiustizia hai corso troppo perché evidentemente forse non hai preso abbastanza respiro a mississippi e forse su ingiustizia ti sei trovato no però perché un altro problema è anche questo che sulle frasi lunghe poi c'è il cedimento verso la fine è perché devi prendere più respiro prima quando c'è la pausa e mantenere questo respiro coraggiosamente fino alla fine della fino alla prossima pausa l'esercizio col dito mi aiutava a rimanere con un volume esatto e continuate a farlo continuate a farlo questo è importante dunque brava Rossella bene è arrivata l'autorevolezza di Rossella vi è arrivata ok mi fa piacere mi fa piacere adesso a chi tocca proprio io bene Anna bravissima allora vogliamo vogliamo andare avanti o vuoi fare sempre questa qua te la senti di andare avanti sì quella di sotto giusto sì esatto ok io ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ok perfetto allora bene adesso però vediamo le pause perché le pause le dobbiamo individuare prima pausa dove la faresti tu allora dopo sogno ok quindi io ho davanti a me un sogno pausa poi la prossima dove la faresti che i miei quattro figli piccoli che i miei quattro figli piccoli vivranno vivranno un giorno no diciamo che se leggessimo diciamo che se leggessimo questo testo così senza recitarlo in maniera lanciata potremmo fare che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno però la cosa migliore da fare è ascoltami a fare questo io ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli che i miei quattro figli piccoli ma per le qualità del loro carattere ma per le qualità del loro carattere sì sì però non sta interagendo non lo so ok vai io davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ok allora cerchiamo di sostenere di più più lanciata Anna io davanti a me un sogno no quando sei a scuola no che devi far sentire i tuoi ragazzi ti fai sentire ogni tanto quando ti devi far ascoltare ragazzi che fai no li richiamo dai io davanti a me un sogno se poi ricordati che non è che è il sogno con la O chiusa però adesso mi interessa le intonazioni poi lasciamo stare il resto io davanti a me un sogno ancora io davanti a me un sogno vedi un po' se davanti se riesci a dire un po' ti io davanti io davanti a me un sogno ok un sogno davanti a me un sogno un sogno che i miei quattro figli piccoli che i miei quattro figli piccoli dillo tutto in una volta che i miei quattro figli piccoli che i miei quattro figli piccoli brava vivranno un giorno in una nazione ecco dovrebbe essere vivranno un giorno in una nazione Lega quella Vivranno un giorno in una nazione Vivranno un giorno in una nazione Vedi se riesci a legarla Prendi un bel respiro dopo piccoli Vivranno un giorno in una nazione Vivranno un giorno in una nazione Brava Nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle Nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle non ti afflosciare mani bella sopra ma per le qualità del loro carattere ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ho davanti a me un sogno oggi allora attenzione ho davanti vedi se riesce a dire un po più la t o davanti davanti che dalle tue parti c'è questa un po questa confusione tra la tela di ma noi siamo tranquilli perché dobbiamo dire ti davanti ho davanti a me un sogno a me vedi se riesce a dirlo un po più chiusa a me ho davanti a me un sogno oggi 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 adesso vogliamo fare che tu a che piano abiti secondo al secondo piano vabbè facciamo che sali sopra il terrazzo all'ultimo piano a un certo punto mentre stai stendendo i panni io davanti a me un sogno cioè cominci a dire a tutto al condominio dice sta cosa come la diresti io davanti a me un sogno io non da me un sogno o davanti a me un sogno io davanti a me un sogno è bella bella con la voce più lanciata fammi sentire grida un po grido un po io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle aria respiro ma per le quali sostieni ma ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno ho davanti a me un sogno oggi rimani sempre up non scendere giù ho davanti a un sogno fallo fallo con me an ascolta io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno di più io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno e ancora più sopra io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno ok ma ancora più volume utilizza le mani cerca di scaldarti scaldare sta temperatura io davanti a me un sogno cavolo io davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli che i miei quattro figli piccoli sostieni vivranno un giorno in una nazione vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ma per le qualità del loro carattere o davanti a me un sogno o davanti a me un sogno oggi o davanti a me un sogno o davanti a me un sogno allora mo fallo tutta sola e poi andiamo avanti che bella sostenuta e se fuori al terrazzo fai la pazza mentre se gli piani quello del cortile il portiere di sotto ma questo è uscito pazza Anna che è successo no perché io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno che i quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il loro colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ok rifacciamolo però rifacciamola così ancora più up muovi muovi muoviti cerchi di essere un po più infervorata io davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il loro colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ah bravissima brava eh caspita bravissima è stato parlato tutti brava Anna sei forte visto hai visto come ti voglio vedere sei proprio guarda oggi però sei stata brava perché hai mi hai colpito quando soprattutto quando nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle la ho sentito una vibrazione in più sei un po emozionata mentre l'hai fatto ho avuto paura oltre che emozione però poi l'hai superata la paura sì timidezza paura di essere giudicata paura davanti agli altri però io ho paura lo sai è inutile ma noi siamo qua per metterci in gioco infatti infatti ne sto approfittando perché mi sono detto se non sono un gruppo un gruppo scelto qua siamo tutti guerrieri della luce ne ripete nella quale ricordo sempre quello che mi dicevi quale mi dicevi sempre di mi ricordavi di pronunciarlo con con la c no sì perché abbiamo quella cosa della c e della g e qua è un po' la t che vedi quando ci fai caso o davanti a me un sogno ricordali sempre della della t ok ho sempre Antonella che mi aiuta Antonella è la tua amica giusto? sì perché credo che lo abbia detto un po' a tutti però imparate a inviare i vocali su whatsapp e siccome ne dovete inviare tanti dovete scegliere una vittima sacrificale le caratteristiche della vittima sacrificale sono o che che ne so il vostro marito cioè però siete sicuri che non vi lascerà mai è una vostra amica che qualsiasi cosa succederà non vi non vi non vi manderà a quel paese perché dovete bombardarli di messaggi vocali e io io faccio sempre tutti i giorni ma tanto non mi dicono niente tu aspetta Nello però te darà una calmata perché noi ci bombardi veramente sulla chat quindi tu c'è bombardi io un po' me ne perdo un po' c'è perere che peraltro c'è bombardi però comunque dico meno messaggi però più corposi però tu Nello quando hai messaggi però ti alleni a parlare bene va bene possiamo mandarteli a te ho fatto due tre volte ok perfetto l'importante vabbè ma è esagerato l'importante è prestare attenzione quindi ricordatevi esercitatevi a mandare i vocali quando mandate i vocali cercate di essere un po' più controllati capire meglio come state parlando mi raccomando riascoltatevi accettatevi anche se non vi piace è normale non vi preoccupate la prossima volta andrà meglio cancellati due volte prima di mandarli va bene è chiaro che se Nello stai mandando il messaggio alla donna che vuoi conquistare è chiaro che là è tu che sei poeta e devi tirar fuori dei messaggi atomici e infatti io quella poesia l'ho scritta lo sai per chi tanto lo sai che le poesie che scrivo per chi sono tranquillo tanto mi fa anche lo stella ormai ormai ho svelato sei un uomo romantico questa è la cosa importante ho svelato tutto vai alla grande ebbè benissimo benissimo allora dunque grazie Anna tutto bene molto brava ottimo mi chiamano arrivo a 35 minuti vai vai tranquillo ti aspettiamo allora adesso chi secondo me io ho una persona che vuole non vede l'ora di parlare sarei io non vedo non vede l'ora non vede l'ora tanto diceva questo supplizio prima o poi deve capitare facciamolo stavo proprio per offrire volontaria allora che poi ti è capitato quello più lungo esatto sì la prossima volta vado prima mi offro prima hai visto che succede ritardare ok dai allora facciamolo bene poi Anna scusami mi offro io Anna se lo trovi troppo lungo Sara 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 no adesso aspetta ora è partita Sara ora mi fa forza non ti preoccupare Rosso tanto lo farei pure tu lungo non ti preoccupare ma adesso visto che Sara si è lanciata dobbiamo fare allora facciamo una cosa Sara innanzitutto diamo un'occhiata alle pause io ti ricordo che quello che devi fare è cercare di lanciare la voce e quindi di tenere un volume alto per tenere il volume alto è necessario respirare di più ok quindi brava brava devi prendere il respiro prendere il respiro significa quindi incamerare più aria quando prendiamo il respiro lo sapete tutti oramai in corrispondenza le virgole dei punti laddove non ci sono virgole e punti troviamo noi se necessario una pausa e lo facciamo in corrispondenza della e che congiunzione oppure di una relativa oppure laddove riteniamo sia opportuno spezzare la frase purché guardate bene non spezziamo troppo le frasi perché l'eleganza nel parlare consiste nel legare il più possibile le parole tra di loro vi ricordate l'esercizio del dito che va proprio a tirare le parole fino alla virgola fino al punto quindi perciò vediamo le pause quando dove la fareste la prima pausa sogno sogno esaltata sì umiliate sì giusto forse piani raddrizzati allora aspetta i luoghi scabri saranno fatti piani no facciamolo a piani piani poi si può fare una pausa che è un'appoggiatura su raddrizzati una chiusura fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati sì e poi viventi insieme vedranno poi questo si collega insieme viventi aspetta la gloria del signore si mostrerà si mostrerà e la gloria del signore si mostrerà facciamo un'altra pausa qua e tutti qua gli esseri no essere c'è un refuso e tutti gli esseri viventi insieme qua la puoi anche legare la puoi bruciare questa pausa e tutti gli esseri viventi insieme bravo Nello tutti gli esseri viventi insieme la vedranno ok ok allora facciamo un esperimento vediamo che succede ok tranquillo allora io ho davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata allora più lanciate io ho davanti a me un sogno io ho davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata ogni collina ogni montagna saranno umiliate e luoghi scabri saranno fatti piani e luoghi tortuosi raddrizzati e luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno è questa la nostra speranza è questa la nostra speranza è questa la nostra speranza questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud questo è il questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud faccelo sentire un po' di più questa è la fede con la quale questa è la fede con la quale questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud ah ok interessante rifaccialo un'altra volta sto facendo una bella vocina eh ho visto ho visto allora mi sono registrata e riesco allora il mio metodo caruso speaker funziona eh sì se uno lo segue la lettera sì è importante mettere in patica va bene allora brava bella bella lanciata io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno ancora io davanti a me un sogno domani io davanti a me un sogno quando vai al lavoro ragazzi io davanti a me un sogno che finalmente non finirò non dovrò strisciare più il beige qua e ve ne andrete tutti a quel paese ok io davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata allora tra sogno devi prendere il respiro devi fare il sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata bisogna prendere ricordatevi sempre tanto respiro perché lui praticamente alza tanto il tono della voce più è alto più respiro avete bisogno di utilizzare ok io davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata ogni collina ogni montagna saranno umiliate eh non ti ammosciare però saranno umiliate saranno umiliate i luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno ok è questa la nostra speranza questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud ok però ti sei un po' spenta nel finale è questa la nostra speranza questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud e dobbiamo sostenere qua è il finale certo ce la fai a fare un'altra versione stanno due aperture giallù qua questa è a quale vero? questa è un'appoggiatura questa è la fede con la quale lasci sospeso io mi avvio verso il sud si chiama appoggiatura questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud questa è una risposta è questa la nostra speranza questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud ok buono stai sostenendo bene di nuovo bella alta bella convinta bella decisa sei Kamala Harris è la vicepresidente degli Stati Uniti Biden pende dalle tue labbra quindi mi raccomando la nazione dipende da te io ho davanti a me un sogno io ho davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata ogni collina e ogni montagna saranno migliate e luoghi scabri saranno fatti piani e luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno è questa la nostra speranza questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud ok rifammi soltanto questa qua andava benissimo questa è la fede questa è la fede con la quale questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud eh pronto fai verso il sud verso il sud lasciala inlevare non t'abbassare questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud sei troppo remissiva nel finale verso il sud cavolo capito il sottotesto è importante questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud ok sei stata più convincente va bene vi è arrivata Kamala Harris vi ha convinto eh ok brava Sara hai fatto bei progressi stasettimana brava Sara è uscito una bella voce questa volta ci ho creduto e infatti l'ho visto mi stai facendo quasi paura questa voce Sara stai uscendo fuori la parte più selvaggia di te ma quando torni a casa no tu stai a casa adesso eh non mi sono altro che uragano altro che uragano bisogna stare attente che tuo marito quando è lo assali con la tua voce va bene va bene ok brava Sara mi sei piaciuta bravissima bravissima allora adesso sotto a chi tocca chi si vuole cimentare dai Ale Alessandra Alessandra dovrebbe reggere bene fa parte eh ma ci sono grandi aspettative presuditi fra Alessandra fra Alessandra ma non è che fosse venuta a Rossello no no perché Rossello deve fare quello lungo poi eh ah vale eh quello dopo poi poi la fede eh grazie ma vediamo vediamo dai allora non scherziamo perché c'è no 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 non scherziamo non scherziamo non scherziamo allora eccomi fra Alessandra leggo direttamente prima allora vediamo le pause allora vediamo un po' vediamo le pause dove le faresti la prima è al punto con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna è fine laggiù e come facciamo con un unico respiro una parola questo fa con questa fede con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza ti trovi sì 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 quindi con questa fede saremo in grado di strappare possiamo anche fare strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza poi con questa fede di nuovo saremo in grado di trasformare l'estrendente discordia della nostra nazione in una bellissima sinfone di fratella ok perfetto allora queste sono le pause mo ok volume atomico è tutta nata la cosa mi raccomando stai parlando ai due parrocchiani però stai senza microfono stai fuori là è è una cosa pazzesca va beh ci provo alla domenica delle palme avanti con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza con questa fede saremo in grado di trasformare le estrendenti discordia della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza ah bravo 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 tutti i sacerdoti parlassero così bravo 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 bravissima bravissima allora soltanto che dobbiamo aggiustare un po' la cantilena eh va bene però l'intenzione c'era l'intenzione vi è arrivata vero l'intenzione eh è arrivata ok allora dunque cominciamo facciamo la prima con questa fede chiudi con questa fede con questa fede ecco con questa fede con questa fede saremo in grado di strappare saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione alla montagna della disperazione aspetta meglio alla montagna della disperazione alla montagna della disperazione di meno meno cantilena della disperazione alla montagna della disperazione cosa devi fare disperazione 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 ah ok alla montagna della disperazione esatto disperazione una pietra di speranza una pietra di speranza ok e pausa poi con questa fede con questa fede saremo in grado di trasformare saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione le stridenti di scordi della nostra nazione della nostra ok in una bellissima sinfonia di fratellanza in una bellissima sinfonia di fratellanza ok adesso abbiamo le pause cioè tutto ma riprendi bello prima come stavi facendo però attenzione alla cantilena con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza allora l'intenzione c'era soltanto che quando poi fa le appoggiature e diventa un po troppo stridente la cosa dobbiamo trovare una giusta misura allora fammi sentire andiamo parola andiamo frase per frase la prima è da con questa fede fammi sentire con questa fede prima l'hai fatta però più alta con questa fede ecco bravo adesso l'hai presa bene prima era questa fede no con questa fede di nuovo con questa fede no adesso è un fede no con questa fede con questa fede ecco poi farmi l'altra saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione no la disperazione alla montagna della disperazione alla montagna della disperazione una pietra di speranza una pietra di speranza ok con questa fede con questa fede no con questa fede no con questa fede chiuso questa fede saremo in grado di trasformare saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione le stridenti discordie della nostra nazione le stridenti discordi della nostra nazione ok un po più chiusa però meglio di prima in una bellissima sinfonia di fratellanza in una bellissima sinfonia di fratellanza di fratellanza non tommosciare però è una bellissima sinfonia di fratellanza in una bellissima sinfonia di fratellanza bravissimo adesso leggiamo tutto quanto così come ce lo siamo fatti noi e cerca di stare attento all'intonazione alle chiusure per favore con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti di scordia della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza ok beh molto bravo c'era una leggera stonatura sulla seconda con questa fede con questa fede rifai questa qua con questa fede con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti di scordia della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza beh perfetto beh bravo alessandro vi è arrivato il messaggio adesso sotto a chi tocca mi sa che che tocca ad una certa rossella carlesso allora non vedo e eccomi allora tutto a posto siamo carichi no siamo carichi allora piano piano ma adesso tu già lo so che sei carica a pallettone un attimo su aspetta è la mia di un attimo solo un attimo ragioniamo prima di diffondere la tua energia solare perché tu hai il sole detto è aperto il microfono voi non ci credete no ma veramente sì o qui la parte diaframmatica professor gianluca si nel chakra penso mi si è spostato dalla parte mia a sinistra sta arrivando qua e sta bene ma vado poi va vai allora vai vai distinto allora vai distinto non vogliamo farci le pause vuoi andare però proprio mi può spostare perché ad esempio e se la metà qui sull'ultima l'ultima frase l'america vuole essere qua sì no 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 e mi chiudi tutto deve essere spostata non so deve essere spostata così no 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 non 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 vedo gianluca tutta questa parte è tutta chiusa non vedo cioè non vedo è e se l'amer è se l'america terra orgò orgog orgoglio ma è strano però anche voi vedete così strano no 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 anch'io no no io ho il telefono opposto io lo sposto questa fila sposto io non riesco a spostare perché io sono tutto aperto qua posso solo abbassare un po così così bravissimo sì gianluca così perfetto perfetto va bene ok allora quando vuoi quando vuoi siamo qua siamo qua allora non l'ho letta e adesso io vado così come come con questa fede saremo in grado di lavorare insieme di pregare insieme di lottare insieme di andare insieme in carcere di difendere insieme la libertà sapendo che un giorno saremo liberi quello sarà il giorno in cui tutti i figli di dio sapranno cantare con significati nuovi paese mio di te dolce terra di libertà di te io canto terra dove morirono i miei padri terra orgoglio del pellegrino da ogni pendice di montagna risuoni la libertà e se l'america vuole essere una grande nazione possa questo accadere applausi applausi dovresti fare il presidente dell'americano ah ma so c'è proprio c'è convinto eh mo tutti ti voteranno ma perché ti presenta le elezioni presentati eh come sindaco di venezia ti devi presentare no 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 lì alla calle salamon eh ti devi presentare guarda che l'ha visto tutto in diretta Anello eh ah sì sì che bello eh bellissimo come no l'ho visto che è bellissimo venite a trovarmi venite a trovarmi guarda facciamo sto tour di Caruso Speaker la mia ambizione speriamo perché guarda è difficile trovare persone che vogliono fare la masterclass sai ormai vogliono fare tutti online vabbè ci proviamo ascolta prof Gianluca io mi ricordo che c'era un caravan che doveva passare sì assolutamente è quello là di stranamore oh you need this love però con il logo di Caruso Speaker poi dopo vi faccio vedere il logo che ho creato con il mio grafico che è lo slogan della masterclass che si terrà il 3 e 4 giugno qua 3, 4 e 5 giugno al teatro portaportese saranno tre giorni di full immersion per scoprire tutto quello che già un po' abbiamo cominciato a sperimentare ma lo facciamo sul palco al microfono sarà una convention sarà proprio una convention americana va bene belli carichi allora brava Rossella non ho niente da dirti cioè se non ti faccio i complimenti perché sei riuscita attraverso il tuo entusiasmo e la tua passione a restituire questo discorso nella maniera più comunicativa possibile oggi stasera scopro una cosa che tu sei molto portata per fare questi discorsi un po' politici tra virgolette mettendoci l'autorevolezza e l'entusiasmo che sono certamente dei colori che tu hai quindi sei riuscita a trovare il ritmo giusto vedi non avevamo neanche stabilito insieme le pause le hai scelte tu hai fatto bene avete osservato tutti avete sentito lei ha fatto delle pause spezzandola le frasi però nei momenti giusti ha caricato quelle frasi ha preso i respiri ha appoggiato la voce laddove c'era necessità insieme carcere la libertà liberi quindi tutte le appoggiature sono state giuste ed è riuscita a mantenere il ritmo perché Rossella ha una buona capacità di riprendere fiato perché comunque e poi devo dire abbiamo anche ammettere una cosa Rossella che tu sei naturalmente portata per un un tipo di discorso del genere perché tu hai già una voce portata hai un tuo modo di comunicare molto estroverso e quindi perciò è chiaro che la tua voce arriva perché ci metti molto più volume rispetto agli altri quindi hai soltanto amplificato questo tuo potere che già hai di trasmettere una bella energia positiva e ci hai fatto, ci hai emozionato comunque ci sono arrivate le vibrazioni io vi dico però devo dire che è troppo bello questo perché ho sempre sentito parlare del discorso di Martin Interkin però devo dire che ci sono tu mi hai detto dovresti fare la politica no 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 io politica assolutamente no però ci sono le cose di diritti di cose che si toccano di diritti civili questa è una meraviglia questo è pensavo guarda pensavo alla pace l'unica cosa che mi sta risuonando in mente da questa settimana da questi 44 giorni di guerra e Nello vorrei dire anche a lui l'unica cosa che mi verrebbe da dire di creare la poesia mi vengono in mente soltanto le parole di pace 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 fra noi anche partendo da noi stessi guarda veramente carica, pallino, ma proprio sì 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 eh lo so poi un giorno faremo un discorso molto bello in cui scopriremo vedo come sono ispirato la faccio poi ve la faccio declamare a voi eh racconto comunque vi rinnovo l'invito mi raccomando iscrivetevi al gruppo io amo la mia voce al microfono perché è un gruppo nel quale potete anche quello ho fatto appena adesso ah perfetto all'inizio della lezione quando l'hai detto prima subito pubblicate qualcosa perché così condividete vedi Rossella, Nello brava Rossella vabbè però sì ho visto che non sono sono duecento quanti sono? cento e settanta ah bene però sono troppi un pom 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 insomma vabbè però partecipano in pochi però però partecipano in pochi vabbè perché abbiamo centomila gruppi poi molti sono pure scomparsi peccato perché comunque c'erano anche dei bei talenti no? però vabbè comunque pian piano vediamo di tornare di moda va bene aspettano aspettano a te Gianlu ecco perché aspettano a me eh io ho pubblicato la cosa se mi avessi risposto qualcuno vabbè comunque ah io ho risposto lo so e vediamo dai è chiaro che mantenere il gruppo significa anche tenere sì impegno e comunque io quello che c'ho di facebook sono un po' dei mesi che l'ho mollato perché non ce la faccio eh lo so lo so però adesso troveremo una cosa simpatica vedrete allora abbiamo letto tutti mi sembra sì che ci manca ragazzi perdonatevi saluto ci vediamo mercoledì Sara ci lasci così ciao a tutti con un sorriso però ah col sorriso ma ci lasci così nelle poderose montagne dello stato di New York eh sì negli alti aleghi della Pennsylvania dove te le vai nelle montagne rocciose del colorato in biancate di neve esatto a fare una seffata con Valeria ma Sara dove è? a Roma anche lei? no Sara tu sì a Roma Rossella allora a Roma ci stanno Sara Valeria Nello e Alessandro invece Anna in Sicilia e vabbè sì e Anna in Sicilia e Rossella è a Venezia ah ok quindi tutti gli altri sono a Roma un abbraccio ciao ciao va bene grazie Sara brava che sei stata brava sei contenta che sto uscendo una bella vocina? sì eh ok meno male mi impegnerò un passo Sara stai andando bene tanti auguri eh grazie ciao va bene ciao bella ciao 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 va bene ripetiamo il giro allora Valeria Pannuti buonasera benvenuta a questo secondo giro di Caruso Speaker ci sei? ok allora leggiamo queste prime quattro frasi fino a fino a California ma non soltanto risuoni quindi la libertà risuoni quindi la libertà dalle poderose montagne dello stato di New York risuoni la libertà negli altri negli alti alegni della Pensilvania lo so sono un po' strane le pronunce alegni 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 risuoni la libertà negli alti alegni della Pensilvania risuoni la libertà delle montagne rocciose del Colorado imbiancate di nere non ti ammocciare però imbiancate di neve risuoni la libertà dai dolci pendii della California risuoni la libertà risuoni risuoni la libertà dai dolci pendii della California risuoni la libertà dai dolci pendii della California della California brava si è andata bene della California della California della California no della California della California della California no della California della California No, tu fai della California. Della California. Apri. Della California. Ah, bravissima. Mo' sì. Brava. Ma non soltanto. Ma non soltanto. Quindi devo chiuderemo qua. Eh sì, ma non soltanto. Ma non soltanto. Ma non soltanto. Ma non soltanto. Ma non soltanto, esatto. Buono. Poi risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia. Risuoni la libertà dalle Stone Mountain della Georgia. Della Stone Mountain della Georgia. Dalla Stone Mountain from Georgia. Avete visto come fai? Hey the freedom from the Stone Mountain of Georgia. Perché lui è un po' un prete, un reverendo, no? E risuoni la libertà. Risuoni la libertà della Stone... Della Stone... Della Stone Mountain. Della Stone Mountain della Georgia. Già. Hai qualche lì a dire... Come si... Sì? Eh? La stella pronuncia bene, che è inglese, tanto parla sempre inglese. Eh, la stella è forte. Ok. Di nuovo Valeria. Posso saltare il Tennessee, la Georgia? Vabbè, vai, vai. Risuoni la libertà da ogni monte. È Monticello del Mississippi, quello ce lo fai. Risuoni la libertà da ogni monte e Monticello del Mississippi. Eh, però... Da ogni prendice risuoni la libertà. Allora, innanzitutto... Ok. Innanzitutto non è ogni, ma è... Ogni. No. Ogni. Ogni. Poi Monticello, un po' più preciso. Allora, ridu di nuovo. Cerchiamo di non far sentire troppo l'accento. Di nuovo, vai. Risuoni la libertà da ogni monte e Monticello del Mississippi. Risuoni la libertà da ogni monte e Monticello del Mississippi. Risuoni la libertà da ogni monte e Monticello del Mississippi. Del Mississippi. Non ti ammocciare qua. Del Mississippi. Bravo. Del Mississippi. Sì. Da ogni pendice risuoni la libertà. Da ogni pendice risuoni la libertà. da ogni pendice risuoni la libertà non è ogni ma è ogni ogni da ogni pendice risuoni la libertà sì ok che dici puoi fare di meglio sei contenta no posso fare di me ok allora ripeti dalla risuoni quindi la libertà dalle poterose montagne dello stato di new york risuoni la libertà da ogni monte monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà ok però parti da prima da sopra ti ricordi risuoni quindi la libertà dalle poterose montagne leggemelo tutto ecco buoni io pensavo solo l'ultima frase allora risuoni quindi la libertà delle poterose montagne dello stato di new york e che stai dicendo a te al telefono stai là nel risuoni quindi la libertà risuoni quindi la libertà delle poterose montagne dello stato di new york bravo risuoni la libertà negli alti al della pennsylvania della pennsylvania chiudino la pennsylvania esatto risuoni la libertà dalle montagne rocciose del colorado imbiancate di neve è vero in neve perché risuoni la libertà risuoni innanzitutto non risuoni perché quando c'è l'incontro tra la u e la o risuoni la u e la o è sempre aperta la o risuoni vai risuoni la libertà dalle montagne rocciose del colorado in biancate di neve ok non ti ammosciare a respiro e alza la voce risuoni la libertà dai dolci pendii della california ma non soltanto risuoni la libertà dalle stone mountain della georgia risuoni la libertà risuoni la libertà da ogni monte monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà ma questo l'hai buttato un po così risuoni la libertà da ogni monte monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà risuoni la libertà da ogni monte monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà in realtà tu fai sempre cadi giù del mississippi della libertà invece devi fare il levare del mississippi fai mississippi 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 a libertà 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 ecco prova a farle così le chiusure fammi sentire risuoni la libertà da ogni monte monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà ok va bene mi sembra buono d'accordo sei d'accordo che dite è stata brava dire di sì ok allora quindi cosa emerge valeria che tu c'hai una bella voce pure te bella che arriva perché tu sei abituata ad alluccare quando parlo che voglio una scuola quindi quando stanno con gli studenti è stato così tratti che già parla io come no come dirai e quindi perciò sei abituato ad alluccare addosso ai ragazzi e quindi a mantenere la calma ecco in questo caso questa tua bella forza espressiva è importante perché come vedi martin luther king era su questo palco di fronte a migliaia di persone è d'accordo risuono va bene ok allora grazie valeria adesso chi chi veniva dopo valeria non ricordo forse anna che vai anna e quando la scena vogliamo fare le pause ti vuoi buttare così dopo libertà sì poi quando le permettiamo di risuonare facciamo facciamo da risuonare sì suonare poi villaggio allora qua se noi leggessimo normalmente ci stiamo fermando troppe volte giusto però siccome questo è un è un discorso molto infatico allora ci stiamo permettendo di fare molte più pause perché dobbiamo fare delle pause nette conclusive se stessimo leggendo normalmente e quando lasciamo risuonare la libertà quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio da ogni borgo da ogni stato e da ogni città acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di dio neri e bianchi ebrei e gentili cattolici e protestanti sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual liberi finalmente liberi finalmente grazie dio onnipotente siamo liberi finalmente ok ora quello che fa lui è dare enfasi ogni cosa e quando lasciamo risuonare la libertà dobbiamo farlo prima assieme vuoi farlo prima tu anna ma qua come dici tu dobbiamo farlo prima assieme un attimo ok ok allora innanzitutto e quando lasciamo risuonare la libertà e quando lasciamo risuonare la libertà ancora più voce non posso molto gridare ah perché c'hai i vicini parenti sì poi di prossimo mi organizzo meglio scusatemi ma stasera era così è stato così e quando lasciamo risuonare la libertà questo ci funziona questo ci funziona e quando lasciamo risuonare la libertà brava quando quando le permettiamo di risuonare quando le permettiamo di risuonare di risuonare da ogni villaggio e da ogni devi fare l'appoggiatura risuonare e perché la ti devi fermare e prendere il respiro se no non ce la fai quando le permettiamo di risuonare pausa respiro da ogni villaggio e da ogni borgo pausa respiro ok quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo legale però da ogni villaggio e da ogni borgo da ogni villaggio e da ogni borgo brava sostieni però hai non ti ammosciare da ogni stato e da ogni da ogni città brava acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di dio nere e bianchi e ebrei e gentili cattolici e protestanti sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spirituolo liberi finalmente liberi liberi finalmente grazie a dio onnipotente siamo liberi finalmente ok molto bene molto bene ti voglio soltanto ricordare alcune cose come dice acceleriamo anche quel giorno anche acceleriamo anche quello anche attenzione la c anche anche quel giorno anche poi no e giorno con la ho chiuso se te lo ricordi giorno giorno non è neri ma in neri neri brava perfetto allora facciamolo un'altra volta ok scusatemi io devo vi devo abbandonare mi dispiace ci vediamo mercoledì prossimo ci vediamo mercoledì prossimo ciao è un piacere scusate grazie sei rimasta contenta di fare marty luther king moltissimo vabbè non mi raccomando sono in grado però quando mai sei in grado tutti siamo in grado l'importante è volere e potere d'accordo e divertirci anche e uscire fuori dalla forma perché non dobbiamo fare sempre le stesse cose sono la nostra vita è piatta dobbiamo fare cose pazzesche oggetto ci deve considerare delle persone fuori dal comune si trovi mi raccomando poi fuori al balcone è quando rilasciamo risuonare la libertà quando le permettiamo qui fuori al balcone sono abituati a vedermi in questo in questa verve allora perché che fatte l'indicato condominio no perché in genere per avere la luce buona per poter fare i video faccio le messe insegni fuori al balcone e quindi la gente è abituata a vedere una sul balcone che c'è mia manetta ma ti vedono il pazzo capiscono che no abito qui da 15 anni quindi già sanno a priori che sono però sanno cosa faccio e quindi capiscono non ci straniscono più di tanto certo la lingua dei segni va bene va bene allora mi raccomando io vi mando questo testo ve lo mando nella chat così dategli un'occhiata e così anzi adesso vi aggiungerò alla fine della della lezione vi aggiungerò nella chat nostra quella la del corso di lezione che abbiamo cominciato tempo fa e così possiamo interagire tutti su una stessa chat posso farlo una domanda giallotta si anna dimmi tutto a valeria ma ti insegni la lingua dei segni no io faccio l'insegnante di sostegno anch'io ma ok ma sono anche un assistente alla comunicazione adesso sto per diventare interprete di lingua dei segni perché mi interessa fare un corso che città sei e grigento lens lente nazionale sordi lente che comunque organizza a livello nazionale ovviamente più tutto che grazie lo cerco veramente c'è lenz vabbè ma adesso scusa se vuoi fare il corso facciamolo con laurea no che lei la mia numero uno se vuole farlo online assolutamente sì se vuole farlo in presenza come fa da catania certo da grigento scusa però anna tu dovresti andare a torino mi pare tra poco per due giorni eh parte parte per torino anna per due giorni ah no scusa avevo capito che se non vuoi farlo online assolutamente quello di all'accademia europea sordi allora ti posso lasciare ovviamente senza il problema è che qualche volta dovresti in qualche modo essere disposta a venire a roma a spostarti a mi più che altro se posso però vale la pena allora voi mettetevi in contatto comunque così vi scambiate le informazioni nella chat perché mi interessa se tu anna ti vuoi scrivere o comunque vuoi avere informazioni ti faccio parlare direttamente con laura che è la presidentessa eccetera assolutamente è una mia amica che mi ha chiamato per fare i corsi quindi stai stai proprio ok grazie online a settembre parte il corso di primo livello che voglio dire laura non ha secondo me poi è sempre un parere personale secondo me non c'è paragone con nessuno ma assolutamente no grazie sono già andata sul sito e c'è proprio scritto aperte le iscrizioni sì per la lingua dei segni accademia europea scuola interpreti scusate la parola però rende dal primo livello che c'è per il percorso intero per diventare interpreti e di cinque anni sei cinque barra sei anni quindi se proprio non hai fatto niente si parte dal corso di primo livello 40 ore niente all'accademia non sono 40 ore ma io un corso e 40 ore no no e niente c'è all'accademia un corso di primo livello sono almeno 300 ore ok grazie grazie per informazioni cinque anni valeria cinque anni addirittura una donna sei in realtà cinque intensivi se l'ultimo lo fa intensivo sei se li fai scaglionati ma sono sei anni o sono sei livelli che poi con no sono sei anni o mio dio superi un anno non puoi accedere a quello successivo è molto severa come quindi è molto grazie grazie valeria allora ci fai sapere ci fai sapere vi tenete in contatto va bene allora ciao buona serata ciao valeria un abbraccio ciao bello ciao 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 auguri auguri buona pasqua buona pasqua buona pasqua pure allora grazie a tutti tanto chi andiamo avanti per chiudere il giro chi ci stava dopo hanno fatto adesso no nello 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 tu l'avevi già letto questa qua no all'inizio no hai letto la seconda parte tu la seconda forse aspetta la seconda forse a seconda forse la seconda forse esatto dai e perciò amici dobbiamo dividere sì facciamo le pause allora la pausa la farei a miei salterei questa qui perché troppo corta a miei ti seguo poi vabbè a che perché vabbè sennò dopo allungerei troppo anche se dovesse affrontare lì oggi e vabbè poi a domani ci arrivo ce la faccio domani poi vabbè sogno ok e poi cosa non si leva da qua no c'è questa cosa nera non mi si leva perché la finestra di gianluca sul contatto ok 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 è un sogno fondamente radicato nel sogno americano che un giorno questa nazione si leverà in piedi la farei qui in piedi che ce la è vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni noi noi riteniamo ovvia questa verità vabbè solo quelle due line più dove sta la e il resto le lascio va bene dai lanciamoci forse e perciò amici miei vi dico che anche se dovrete affrontare le prosperità di oggi e di domani io ho sempre davanti a me un sogno è un sogno profondamente radicato nel sogno americano e un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni noi riteniamo ovvia questa verità e tutti gli uomini sono creati uguali ok allora le pause dovevo allungare di qua e di là perché non vedevo tutta la striscia e quello mi fermavo ma non la vedi la striscia no la vedo però siccome l'avevo allargata troppo e quindi devo sbarrare di allora ripeti con me ok e perciò amici miei e perciò amici miei vi dico che vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani io ho sempre davanti a me un sogno sostieni di più alza il volume io ho sempre davanti a me un sogno io ho sempre davanti a me un sogno è un sogno profondamente radicato nel sogno americano è un sogno profondamente radicato nel sogno americano che un giorno questa nazione si leverà in piedi che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni più alto più alto è noi riteniamo ovvia questa verità noi riteniamo ovvia questa verità che tutti gli uomini sono creati uguali e tutti gli uomini sono creati uguali no sono creati uguali sono creati uguali ok va bene e perciò amici miei vi dico che anche se dovrete affrontare le prosperità di ogni giorno le asperità le asperità le difficoltà di oggi e di domani io ho sempre davanti a me un sogno è un sogno profondamente radicato nel sogno americano che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni noi riteniamo ovvia questa verità e tutti gli uomini sono creati uguali ok come come io secondo me sono andato bene io vado e dico la mia poi sì sì si è andato bene però che cosa ci mancava rispetto a matti l'ultimo forse un po di enfasi eh ci manca il volume non ce l'hai ancora eh dai no ultima volta vai sì stai stai parlando quando sei in giro col furgone che c'è un casino la pioggia il gelo tutte le cose che ci fai vedere ah ok e perciò amici miei vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani io ho sempre davanti a me un sogno è un sogno profondamente radicato nel sogno americano che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni noi riteniamo ovvia questa verità che tutti gli uomini sono creati uguali che tutti gli uomini sono creati uguali uguali qua mi sono sbagliato a chiusura va bene va bene dai mi piace allora tutti gli uomini sono creati uguali uguali devi lavorare sul volume però anello ancora le intenzioni ci stavano però il devi lavorare sul volume quando ti eserciterai a casa ok però l'hai fatto bene le intenzioni c'erano questo è importante va bene a chi tocca adesso è messa rossella rossella rossi eccola eccomi allora vuoi vedere le pause vuoi fare direttamente aspetta quale era molla la frase io davanti a me un sogno che un giorno giorno l'ultima ok si l'ha messa vuoi allargare un po allora scusate mi è venuto un raffreddore improvvisamente allergia no non so allora le pause io c'è una cosa nera sotto eh alla fine dopo dove c'è scritto questa è la fede ecco qua l'ha tolta allora io davanti a me un sogno vabbè prima pausa sogno che un giorno animale sarà esaltata dopo esaltata ogni collina saranno vabbè alle virgole però poi i luoghi scabri saranno fatti piano ma questa qui deve leggere tu stai vedendo no devi salire sopra la prima sulle rosse colline della georgia soprattutto ah scusate no te l'ho chiesto se era quella sotto vabbè allora io davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della georgia questo è lunga e alla e quindi dopo il sogno e poi provo arrivare a schiavi e dobbiamo fermarci prima perché non ce la facciamo con i fiati questo è tutto fa delle pause nette con così io davanti a me un sogno a me verrebbe di dire che un giorno sulle rosse colline della georgia però anche dopo giorno mi verrebbe i figli di colore con tempo furono schiavi vabbè no poi spezziamo troppo vabbè potrebbe visto che siamo infatici potrebbe essere vabbè un po prendo l'aria alla e e poi alla virgola dopo schiavi allora quindi sogno giorgia e e schiavi dopo schiavi i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi possedettero annaggia possede giorno e possedettero minuti insieme al tavolo della fratellanza gianluca scusami scusate e gianluca io purtroppo sono coperta dalla schermatura della ma e le parole sono sempre come prima a metà cioè non riesco di farlo un po più piccolo forse lina sì più piccolina grazie gianluca io davanti da me scusa devo farlo enfatizzare come prima io davanti a me un sogno ok io davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ok buono rifacciamo sentiamo un po di più l'enfasi però ci stare abbastanza sentiamo un po di più l'enfasi ok spero che devo prendere il fiato perché non l'ho preso sempre sì io davanti da me un sogno che un giorno sulle rosse colline della georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza sbagliato no perché perché no alla fine è venuto brutto al tavolo della fratellanza non avere non avere fretta allora se ti riesci a ricordare coloro non è coloro coloro lo dice due volte coloro coloro ok ok no sembra bene però mi sei piaciuto vai però e vedi che il segreto è prendere il fiato si basta no no allora quello ha detto coloro coloro sogno coloro giorno possedettero questi sono i problemi qua io davanti da me un sogno che un giorno sulle rosse colline della georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ok buono bravo insieme l'unica cosa rosso dobbiamo stare attenti a figli perché da gli siamo a mi è venuta la napoletana figli figli vuoi riprovare ai vado adesso faccio metto anche le braccia la mimì io davanti da me un sogno che un giorno sulle rosse colline della georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ok ok vi è arrivata vi è arrivata bravo attenta a non gridare troppo poi è venuta sì sì però controlla anche quel nel senso che poi diventi diventi poi bisogna controllarla pure quella cosa del volum però bravo di pancio sei andato senata bene sono contenta ha indovinato pure con loro possedetto bravissima ottimo va bene sono contento allora andiamo avanti chi ci chi c'è chi vuole e c'è rimasto alessandro della trarrossella e c'è rimasto alessandro ok chi vuole fare ecco io ho davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato dell'ississimi uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia colmo dell'arroganza dell'oppressione si trasformerà in un oasi di libertà e giustizia bravi bravi bravissimo ottimo voto fuori alessandro grazie sei stato forte allora scusami vai avanti allora mo l'altro eh sì io ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi eh è bravo ottimo va bene bravo alessandro bravo alessandro bravo alessandro bravo alessandro ok dove sei arrivato davanti a me un sogno oggi giusto oggi perfetto bravo bravo e che dirti la stai indovinando hai fatto le pause giuste l'enfasi giusta attenzione sempre un po mitigare un po la cantilena che vabbè però bisogna ripetimelo un'altra volta ripetimi l'ultima frase un'altra volta io ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ah bravo bravo ottimo posso dire una cosa mi piace come dice quel non saranno giudicati mi piace quella il tono sì come che fa una come si dice una salita no come si dice non saranno giudicati un'apertura un'apertura mi viene a salire una per un certo attimo viene così da dire per tu che senti una parola sì mi piaciuta l'apertura mi piace l'apertura lì come la fa infatti è interessante però ha detto sogno quello non è è quella cosa bisogna però va bene non sei tranquillo ok va bene va bene bravo alessandro ci sei piaciuto adesso grazie a te adesso la bella rossella carlesso si chiama il suo sole che batte io davanti a me un sogno io davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata ogni collina e ogni montagna saranno umiliate luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno è questa la nostra speranza è questa è questa la è la fede con la quale io mi avvio verso il sud bravo mazza questa è la fede con la quale mi avvio verso il fa mi soltanto quest'ultima chiusura questa è la fede la fede con la quale io mi avvio verso il sud ottimo ottimo molto guarda tu vai proprio forte in questo discorso di marty luther king c'è proprio da un enfasi una passione vogliamo provare a farlo sempre che tu lo fai sempre di pancia vediamo vedere se riesce a dare qualche sfumatura in più qualcosa che dice quest'ultima sì io davanti oppure no facciamo vabbè ti faccio leggere questo l'hai già fatto tu quello sotto questo qua quello che ci sono anche le cose in americano risuoni quindi la libertà delle poderose montagne dello stato di new york risuoni la libertà negli alti a legne del pennsylvania risuoni la libertà delle montagne rocciose del colorado in biancate di neve risuoni la libertà dai dolci pendi della california ma non soltanto risuoni la libertà della stavanti della giorgia risuoni la libertà dalla lockout mountain del tennessee risuoni la libertà da ogni monte e monticello del mississippi da ogni pendice risuoni la libertà bellissima bellissima ti vedo proprio tipo girl power ma è troppo forte è troppo forte veramente va bene rossella o abbiamo chiuso in bellezza tre ore si sto aggiungendo perché così siamo tutti quanti collegati adesso vi condivido il testo di marty luther king avete notato che sono tre ore che stiamo collegati quindi abbiamo super sicuramente dopo ho fatto avere i vocali che ha fatto sia rossella che mimmo dici se sono andati bene sì volentieri sentire anch'io è quelli la della mia poesia e due la tua poesia è bellissima è bellissima è bellissima sì sì l'ha fatta una volta sola l'ha fatta infatti gli ho detto mi è arrivata subito proprio a mattina presto mamma mia ma ecco il discorso è arrivato il testo da dico studiare sarà troppo il testo da ripetere perché studiare pare che no vabbè a studiare ecco il testo di marty luther king vuoi sapete voi che mi fa dove arriva mimmo arriva da sempre su whatsapp si si sta lì ti ho aggiunto che rossella visto se no gli altri me li mandavi dove su su we transfer sulla mail i documenti no te li posso mandare sulla mail si chi ha bisogno poi di stamparlo me lo dice ah no io si ho si 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 lo so lo so infatti te lo sto mandando aspetta io tanto vi faccio stampare la tabacca infatti prof tu ce l'hai le mail certo certo ma puoi anche stampare da whatsapp da whatsapp si può stampare non lo so come si fa fai su whatsapp web apri e stampe vabbè comunque rossella te l'ho mandato lo stesso grazie prego ce l'hai pure il mio va bene allora facciamo facciamo una sono andate via valeria e sarah le salutiamo e giovanni anche non c'era però vabbè poi recupereremo la prossima volta datemi un feedback su questa anzi mimmo ma tu ci sei mimmo apriti il microfono parla un attimo forse non puoi parlare si mimmo e non ecco ti evviva ciao ciao buonasera a tutti un caldo saluto benvenuto a mimmo abitetto eccolo qui scusate ma grazie a tutti i grandi sostenitori del gruppo io amo la mia voce al microfono bravo mimmo per la tua passione grazie grazie senti una cosa hai ascoltato un po' le nostre tutto tutto qua ok potevi partecipare perché poi ti sei io ti ho chiamato però ma è che non so usare questo apparecchio qua ah non serve questo apparecchio qua con la tecnologia sono un po' indietro va bene non ti preoccupare possiamo rimediare allora non so come si apre che ti è sembrato di questa lezione eravamo matti o eravamo no interessante no interessante molto interessante ok ok va bene quindi hai imparato pure tu adesso il discorso di martin luter ti senti eh sì sì ti sentiamo pronto ti senti ti sentiamo ok è stato molto interessante bravi tutti bravi insomma siamo riusciti a trasmetterti l'autorevolezza la passione aspetta che apro un attimo forse devi trovarti le cuffie capito mimmo questo ti serve ecco se ne è partito mimmo va bene allora detto ciò vabbè datemi voi un feedback su questa serata che abbiamo passato questa nottata perché sono tre ore che stiamo collegati beh certo questa è una lezione diversa da quella che abbiamo fatto le altre volte perché giustamente ogni tanto le faremo queste lezioni sì no però poi non dobbiamo trascurare il resto no no se dobbiamo fare i colori della voce bisogna comunque sempre iniziare da un testo giusto come hai detto tu certo certo oggi vi ho voluto introdurre questo argomento che è importante e poi ogni tanto faremo questo magari alterniamo un po' di interpretazione particolare giustamente ci vuole il blu autorevolezza poi magari su un passione ci sarà un altro testo comunque questo qui c'è anche passione non è soltanto sì sì no l'ho detto anche io è più rosso che blu questo sì sì beh va bene va bene va bene ecco qua ecco 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 scusate ma non tranquillo tranquillo allora Alessandro dicci tutto com'è andata sta lezione la lezione è un po' faticosa devo dire la verità mi sento un po' stanco perché tre ore sono lunghe però effettivamente perché abbiamo fatto la presentazione all'inizio oh sì sì però era importante farlo se no siamo trasconociti sì 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 sono d'accordo sono io che mi stanco facilmente perché mi sono analizzato presto solo questo no sì per me la lezione è stata non solo interessante ma anche diciamo almeno quello che mi porto io ogni volta che ti sento è una maggiore capacità di sentire perché ad esempio tu mi dici sempre la cantilena però stasera ho conto un'altra cosa della cantilena che prima non avevo colto cioè ogni volta che ti sento è come se il mio orecchio migliorasse nel capire alcune cose ecco sì l'intorazione certo faccio delle difficoltà cioè ho delle difficoltà però pian piano è come se facessi uno step superiore nel capire eh certo perché a volte ad esempio quando tu fai le correzioni io non capisco perché tu fai le correzioni ma che cosa gli sta chiedendo sforzarmi di capire perché hai fatto la correzione poi mi aiuta a capire qual è la differenza che tu cogli e io no non è sempre immediata la cosa però ci stiamo dicendo certo però non capisco e questa è una cosa molto buona e beh come dico io se io non capisco il concetto è inutile che me lo dici 50 volte se non capisco niente devo capire il concetto una volta che mi è entrato dentro allora poi non male che ti ho occupato credo che vi faccio sempre capire i concetti fino a quando fino allo sfinimento poi lo riuscite sempre a capire va bene e Anna invece come è andata questa lezione come è interagito col gruppo ti è piaciuto conoscere gli altri membri della banda sì mi sono divertita mi piace quindi mi iscrivo ok mi sono si è trovata benissimo vi ringrazio ci vediamo mercoledì prossimo sì spero di di essere in una situazione diversa più tranquilla così non mi disturbano più di tanto eh figurati non so se mi riterremo anche la prossima volta non mi assento perché mi spiace assentarmi mi scusa mi chiamano purtroppo lo sai che sono tornata lo sai certo 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 ci è andata benissimo sono contento che tu stia facendo questa esperienza perché dopo aver fatto i due livelli comunque è importante mettersi in gioco e quindi stare a contatto con gli altri ci arricchisce perché ascoltando gli altri interagendo anche dagli errori degli altri si impara tanto quindi è importante ascoltarsi perché ciascuno di noi ha delle cose da dire da esprimere e devono arrivare queste emozioni oggi abbiamo lavorato sulle emozioni e sulle intenzioni la prossima volta vedremo dobbiamo sempre lavorare anche sui nostri limiti che dobbiamo superare l'articolazione le intonazioni qua abbiamo lavorato bene su sull'autorivolezza e sulla passione e ci siamo anche cimentati su alcune cose non siamo stati perfetti da quel punto di vista perché non possiamo essere però stiamo guidando la macchina infatti questo per me mi aiuta perché come dicevi tu poco fa io ritornerò a Torino anche per pochi giorni e quindi ho paura di rivedere le mie amiche il mio ambiente ho paura di di aver perso di aver perso quell'accento quindi no ormai ho quello siciliano e quindi ho paura ma tu sei una donna cioè vuoi mettere la Sicilia la terra del fuoco vuoi mettere questi torinesi che sono freddi io so ho avuto una specie vabbè lasciamo stare lasciamo stare Anna lo sa lasciamo stare le parti di Carmagnola e dintorni delle bellissime località a Mene dove non sempre abitano persone di cuore detto ciò detto ciò vabbè allora a questo punto continuiamo col feedback Rossella Rossi buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti com'è andata com'è andata com'è andata e guarda io mi appiccico proprio alle parole di Alessandro cioè ora che lui quando lui ha detto che appunto sta cominciando un po' a capire meglio alcune cose non le comprendeva risuonava poi è stato divertente sono contenta che ci sono altre persone ci può essere più scambio e secondo me bisognerebbe sempre appunto imparare facendo quindi magari sarebbe carino anche provare a fare dei dialoghi sì sì lo faremo certo certo che lo faremo adesso che siamo di più certo che lo faremo è importante però non dobbiamo trascurare ricordatevi di esercitarvi articolazione cose eccetera ok perché ci divertiremo un po' di più però io vi faccio divertire ma vi devo pure dire che se non curiamo le altre cose ci divertiremo però poi non raggiungeremo dei livelli tecnici adeguati ok dobbiamo sempre allenarci la matita le cose un po' le sapete e registrarvi e riascoltarvi quello è importante senti ma la prossima volta è comunque sette e mezza adesso è sicuro non sette eh no facciamo sette e mezza però magari perché a te ti viene difficile le sette le sette e mezza però possiamo fare le sette e mezza no non è difficile le sette e mezza che poi magari finisce molto tardi quindi mi devo organizzare prima mi devo organizzare un po' vabbè facciamo una cosa vabbè io perché spesso sono solo le lezioni online quindi faccio un po' tardi come sapete e semmai facciamo le diciannove così alle ventuno finiamo che dite no no come volete voi io lo dicevo solo che così mi preparo poi se non ci la fai in effetti no vabbè io mi segno le diciannove voi mi aiutate non so gli altri se va bene però tanto lo so che poi vedi alla fine si fanno più di due ore quindi si arriva sì sì e confesso ho un po' fame adesso e ci avete ragione scusatemi se vi ho intrattenuto però credo che sia stato ho mangiato ho mangiato prima lo so tu sei bravo tu mangi sempre prima tu vuole che ti devo fare la battuta di Giovanni non te la faccio la battuta di Giovanni ma tu già la sai qual è la battuta di Giovanni? e Nello la sa che la battuta gli fa quando lo vede in pigiama quando sei in pigiama guardate che anche io sto in pigiama ma non è damascato come quello di Nello ci saluta Mimmo credo Mimmo allora dai dacci pure tu un feedback allora com'è andata sta lezione l'hai ascoltata ti è piaciuta? no avevo scusatemi avevo il telefono scazzo di batteria quindi ho dovuto metterlo qui in camera da letto e praticamente sono un po' scomodo diciamo per ascoltare comunque è stato molto interessante è stato molto molto interessante e piacevole all'ascolto bene bene allora magari se vorrai essere dei nostri ti aspettiamo a braccia aperte ci devo pensare ci devo pensare perché sono molto impegnato per altre cose o altre tranquillo altre passioni facciamo il mercoledì dalle 7 alle 9 sicuramente una risposta a breve tanto mercoledì prossimo ci rivedremo stai tranquillo ok? va bene allora chi manca per il feedback la bella Rossella Carlesso puoi dire una cosa a Mimmo Mimmo ciao 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 parla parla dimmi il discorso di Martin Luther King ti sarebbe andato molto geniale ah bene 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 proverò in separata sede farmelo da solo ok vi esercito per voi va bene lo facciamo nel gruppo dai lo facciamo nel gruppo d'accordo va bene io vi devo salutare vai ci salutiamo si è fatto tardissimo dai ragazzi ti saluto buonasera e buona Pasqua buona Pasqua auguri pace e bene buon abbraccio a tutti buonasera Gianluca ciao Mimmo a presto ti abbraccio sicuramente ma portanto anche a voi ciao 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 a tutti ciao va bene signori allora ci stiamo salutando tanti auguri di buona Pasqua Rossella voleva dire qualcosa Rossella Carlesso prego volevo soltanto dire grazie professor Gianluca grazie a te grazie grazie perché siamo stati tanti è per me stato non piacevolissimo di più ancora perché è proprio bello fare per me questo è un team è una palestra di vita conoscere come dicevi prima dall'alto in basso in giù eh sì ma infatti dobbiamo aumentare qui le regioni d'Italia qua siamo da Venezia alla Sicilia pensati è una cosa a te io lo dico proprio e tu lo sai proprio con il cuore come sempre abbiamo cercato anche per il gruppo stesso anche con Cinzia la grandissima Cinzia Corallini con Giovanni Rusmino io sono entrata così un po' in punta di piedi però ho visto che l'accoglienza è stata bella la condivisione è stata bella è come se ci fossimo già conosciuti e grazie a te perché io che lo dico sempre faccio questo mio piccolo tam tam però vedo e spero che possiamo veramente perché è proprio bello da aspetta dall'Anna a Rossella a Nello poi c'era Alessandro poi Sara poi Valeria oggi mancava Giovanni Giovanni che poi è un pezzo grosso cioè senza Giovanni è bello perché è veramente un bel gruppo ci siamo conosciuti abbiamo fatto delle belle esperienze una bella cosa e grazie ancora a professor Gianluca perché ti vedo ti vedo sei tanto 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 lavoro che vuoi fare vabbè è importante riposati io voglio riposare io voglio organizzare la masterclass magari datemi una mano con questa masterclass su Roma che è complicata da portare ma guarda con Nello io te l'ho già detto se non è momento a venire alla montagna è la montagna che va la momento certo e lo so lo so e devo vedere ma se non riesco a fare prima Roma figure se vado a Padova e Verona vabbè comunque dai devo fare questa landing page un po' di cose devo è un mio obiettivo un mio desiderio e devo realizzarlo e c'ho poco tempo e vediamo se si può fare e se no farò a settembre che vedevo di l'importante è farlo bene allora io vado a cucinare la mia pasta con le zucchine io vi saluto sono le 22.46 quindi siamo da tre ore e mezza collegati è stato un piacere sono volate queste ore con voi e vi ringrazio perché attraverso di voi i vostri sorrisi le cose che fate la passione che ci mettete mi sento mi sento un po' a casa non ho tanti amici ma tutti i miei allievi sono i miei amici e quindi la cosa bella è che ritrovo in voi l'unica cosa che mi dispiace è che state tutti quanti distanti vi vorrei invitare per esempio faccio una festa cioè un pranzo per il mio compleanno che è il 21 aprile già sappiamo già sapete tutto il 24 aprile io faccio un pranzo qua a casa e chi vuol venire è invitato e certo Rossella Gianluca forse nello io e te potremmo andarsi forse tu potresti fare però non impingiamo Gianluca fai una video chat in diretta con chi ah è vero è vero esatto con tutti quelli del corso certo certo lo devo fare lo devo fare assolutamente a te happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Mr. President con tutti i colori della voce happy birthday to you thank you thank you mi raccomando però ricorda fatemelo giovedì perché poi è troppo cresso facendo ma arriva giovedì va bene secondo me tra Rossella e Giovanni ci saranno belle scintille la vedo vedo varie scintille qua vedo fuochi d'artificio fuochi d'artificio vedo tutti fuochi d'artificio va bene dalle alpe auguri buone vacanze a tutti buona Pasqua tanti auguri divertitevi riposatevi mangiate cioccolata pastiere e tutto e soprattutto ogni tanto leggete l'alta voce che mi fa bene e registratevi riascoltate ciao 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 professor ciao 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 Grazie a tutti.